La fluidità c'è Ogni tanto il pc quando lo aggiorno Raga fa le bizze Let's ma anche goschi Vediamo cosa succede Perché Ma poi ieri sono andato pure a correre Ieri è andata bene a correre però È andata bene Soltanto raga Ho messo lo short sbagliando Nessuno ha fatto caso all'errore però Io me ne so accorto ieri sera E prima di andare a dormire Errore che ho fatto solo su tiktok e su instagram Ho detto Sì ho visto che è bocottato pure oggi Ho scritto quando invece di quando E nessuno se n'è accorto Nessuno se n'è accorto Tra l'altro poteva essere anche una mossa Per far commentare a qualcuno Qualche precisino Ma rinocchi Ho scritto quando invece di quando E il tiktok è andato stranamente bene Nonostante l'errore Quindi L'ho dovuto lasciare Me ne so accorto A luna di notte Sono andato là a vedere Ho detto fammi andare a vedere come sta andando Quando Ho detto no Perché l'ho messo Una volta che sono tornato a correre Prima di buttarmi in doccia Erano già Le 8.90 Ho detto Porca miseria È tardi Tempo che mi faccia la doccia Mi asciugo i capelli Mi distraggo un attimo Se fanno poi Le 9 Non metto Perché il giorno prima Non l'avevo messo Il reel Non l'avevo messo il tiktok Ho detto no Dovete per forza Tanto è pronto Sono andato là Quando Io non ce l'ho Quando Quando ho scritto Mamma mia ragazzi Mamma mia Punto per quello che non è Ho scritto Quandi 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 Vabbè comunque a parte tutto Facciamo parte pure il tiktok Qua sennò se perdiamo Ci perdiamo in una maniera Imperdonabile Ok Facciamo partire Poi oggi ho scritto pure La recensione Quella lì Della Delle cuffie Finalmente abbiamo la recensione Finale delle cuffie Ce l'abbiamo Devo soltanto Fare il girato Devo soltanto fare il girato Marie ma stai andando a correre Per la Kings No non niente Sto andando a correre Per La mia salute Non per altro Non per altro Tra l'altro Ieri è stato il secondo giorno Che vado a correre Sto Sto una crema Allora Vi metto anche l'audio Ne ci siamo Ne siamo pronti Mamma mia Prontissimi Metto l'audio anche io Tra l'altro Un'altra collaborazione Potrebbe partire Settimana prossima Regà Non ve ne posso ancora parlare Perché Fondamentalmente Se ne è parlato oggi Ne ho parlato oggi Collaborazione con un marchio Regà Con un marchio Vediamo Vediamo che cosa È che si può fare Intanto mi parto Una singola Ciao Manuele Buon pomeriggio Ciao Saru Tutto bene Guarda oggi Stranamente non sono affaticato Però c'avevo tantissime cose da fare Che non sapevo se fa live Però non volevo perder filo Perché non posso Cioè sono qui fisicamente Non rimandare domani Quello che puoi fare oggi Tra l'altro dopo Devo condividere la storia Del buon recolone Che è attualissimo È sempre attuale Ogni giorno io Mi rifaccio a quel detto Non rimandare a domani Quello che puoi fare oggi Oggi sto bene Senza allergia Il tempo c'è Sì Avrei potuto dedicare il tempo Per fare le altre cose Per portarmi avanti Oh la faremo Cioè facciamo le live Adesso Poi Più tardi si vedrà Insomma voglio dire Buongiorno Buongiorno Ti becco un corno Eh sì sì ma È un Come si dice È uno dei pupilli Uno dei pupilli Del Del buon Pippo Del buon pippo Del buon pippo Intanto bella Sghi pure Buon swudy Grande swudy Chavin anche a te Becco un corno Ma chavin Ma lei va in ogni lido Ma mi scusi Ma lei va dappertutto Lei va dappertutto Lei va dappertutto Tipo la Roma E oggi gioca col Milan Ai 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 Europa League oggi Oggi Europa League Giuseppe grazie mille per il follo Oggi Partitaccia Nick ciao Fra ciao Oggi partitaccia Oggi partitaccia Maria anche lei La becco vu A me piace guardare le live Amici Però sto sbagliando ultimamente Dovrei dedicarmi un pochino Di più alle collaborazioni Con indietro Piuttosto che andare A andare A andare A live Cambia skin Pietro Alla prossima la cambiamo Anche perché Cavolo Ci abbiamo Rise of the Eronine Non riesco più a giocare Io perché la mattina Regà E non riesco a giocare Non riesco a giocare La mattina Non riesco Lo dicevo pure A Milano Chalouage Perché Milano Chalouage Stima la mattina Mi dice ogni volta Andiamo Vieni a giocare Giochiamo di qui Giochiamo di là Ma io non gliela faccio La mattina A giocare Non gliela faccio Quando fai il prossimo gioco Induvina le parole Come induvina le parole In che senso Ciao Wallah In che senso Indovina le parole Il più bel gioco di sempre Ma è tipo Nome cose città No non è quello Immagino sia quello Ditemelo voi Ditemelo voi Nome cose città Ma Quanta acqua hai bevuto oggi? Oggi Saru Poco Vedi vedi Abbiamo appena iniziato A bere l'acqua Chiaramente La ferrarelle Non mi paga Ma Pago io lei Per berla Ok Giustamente Andiamo C'è subito qualcuno Sopra la nostra testa Ma non ho fatto Il tempo Scendere Nemmeno Il tempo Di scendere Ne fa senare Ma è uno street sniper No Io lo aspetto Dobbiamo leggere nickname È uno street sniper Ragazzi È messo a ballare Mazza Manca il tempo Dei fammi iniziare però Manca il tempo Di iniziare qui Nemmeno il tempo Di scendere Prendere un'arma Guardare il contorno È uno street sniper Per forza Per forza ragazzi Non lo so Per forza Per forza Ragazzi Tra l'altro Ha la skin Migliore del pass Attualmente In dotazione Se sei uno street sniper Dopo esserti bevuto Qua questa roba Mi faccio un ballo Degno di nota Balli Mi faccio un ballo Mi faccio un ballo Un ballo Voglio un ballo No Un ballo Un ballo Un ballo Ma forse non è Uno street sniper Forse no Un ballo Un ballo Si balla Le sgoski Le sgoski balla così O no No non è un street sniper No 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 Non lo è Non lo è Avrebbe Avrebbe fatto un balletto Non lo è È semplicemente uno Che si è divertito No non lo è Bene 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 Sono stato soltanto sfortunato Dobbiamo Dobbiamo dirlo Comunque Mi hai snobbato Anche a te In che senso Ma chi è stato utilizzato Tutti i termini snobbare Oggi Che è successo Chi è che snobba Che mi hai scritto Aspetta Fammi cliccare su nome tuo Messaggi Un gioco Ha fatto walla L'altro giorno Comunque si ma riesce Non vado anche me Buonasera Nico Buonasera Nico Anche walla in passato Buongiorno Ma ti becco ovunque Piccola domanda Cod lo porterà Ah Cod lo vorrei portare Lo dicevo giusto ieri A Chi è che lo dicevo Aspetta fammi ragionare Lo dicevo Lo dicevo Lo dicevo giusto ieri A Matte Che lo vorrei portare Però in compagnia De Jack Non vorrei portarlo Tipo in solo Perché in solo Già ti fa prendere L'attacchi cardia Col gioco Magari con un aiuto in più Di una persona Che lo gioca In maniera più ricorrente Potrebbe essere più divertente Perché magari Ci salva Ci salva In molte circostanze Quindi Se riesco a organizzare Qualcosa con Jack Un giorno Possiamo anche portarlo Senza problemi Portiamo un giorno Cod e vediamo Poi inseriamo pure Dentro il pentolone Ci mettiamo pure Rai o colone E Abbiamo fatto Abbiamo fatto Quel che dobbiamo fare Devo parlare anche con Ray Vorrei un attimino Che non riesca a sentire Perché c'è una situazione Insomma Così E però appena Ci mettiamo d'accordo Io lo dico pure a Ray Anche perché gli devo proporre Un'altra cosa gustosissima Un format gustosissimo Ma non si riesce a trovare il tempo Oggi devo andare pure al lavoro Più tardi E quindi vediamo Vediamo che cosa è Che si può fare Intanto Buon porri Faccio pure a Sunshine E che ho scammato Qualcos'altro Non lo so Tastiera inglese C'ho pure io Quella della Corsair Eccola là È da cambiare È troppo grande È stata tastiera Sai Nico Troppo troppo grande Ma risegui anche le live Ad ogni tanto Ogni tanto qualche format gustoso Sarum Ranked pure su Warzone Yoel Tu ti vuoi un pochino male Come Jack Colone No ma è come Hai fatto un miscuglio Tra Rayo Colone E Jack Ma come è potibile Buon pomeriggio Gigio Ecco te qui Ecco te qua Io lavoro in pizzeria Faccio il cameriere Adesso sto lavorando 3-4 volte a settimana Ho diminuito qualche giorno Perché altrimenti Non sarei potuto andare avanti Con le live Perché Qui in live Let's go Sì è così Sì è così E Mohamed Grazie per la rosa Grazie mille Sghi E perché Io creo anche contenuti Tant'è vero Vedete regà Non stanno uscendo Contenuti lunghi su Youtube Perché sono Adesso ho iniziato pure a correre 2-3 volte a settimana E Quando torno Sono tipo devastato Ieri quando sono tornato Devastato regà Completamente devastato ieri Avevo avuto la vaga idea Di montare qualcosa Non ce la potevo fare regà Non ce la facevo E una cosa Quando non ce la fai A farla E' meglio non farla Cioè se devi fare una cosa E farla male Meglio non farla regà Se esce fuori un pastrocchio Che come quando vedi Il pastrocchio Una volta che stai bene Dici ma chi mi ha fatto fa Ma che è sta cosa Ma chi se la guarda Perché io cerco sempre Dei carri contenuti Che poi magari piacciono Perché se non piacciono E chi fa ma fa Intanto Quella cosa che finisce per Ina Grazie mille Per l'abbonamento regalato Che è finito a Shane Shane Se ci sei mi raccomando Ringrazia il buon Quale cosa Che finisce bene Finisce bene Non lo consigliamo E Mi raccomando Mi raccomando Ringrazia se ci sei Harry Bellasgi Benvenuto Gazz Buongiorno anche a te Buon pomeriggio Buon pomeriggio E quindi se una cosa Devo fare male Io non la faccio Io parto da sto presupposto Vale per le live Cioè se tipo io sto Tutto distrutto Così io non gli faccio A spicciare una parola Non posso andare live Se sto pieno d'allergia Dipende Se c'è un po' di energia Vado live Come è successo Insomma C'è un naso tipo così Tipo Naso rosso De mastro ciliegio E Quando vado a fare video Regà Io cerco di creare un video Che Ah se io sono il primo Che non Io faccio il video La metto così regà Io inizio a fare un video Io poi il video che faccio Me lo rivedo Il problema sapete che è Che me lo rivedo tre volte La prima volta me lo vedo A velocità normale Le due volte successive Me lo vedo in due per Perché se no Passa troppo Devo ottimizzare il tempo A disposizione Ok però la prima volta Me lo vedo come Tranquillamente Piatto Così com'è Tutto attenzione Se c'ho sonno Comincio a fa così Comincio a sbattere così Se c'ho sonno E guardo un video Devo fare così regà Se no mi prende tipo La biocco Il video mio Se sto particolarmente stanco E se non ce la faccio Proprio stacco Chiaramente E in due per Le altre due Quando sono già bello sicuro Che il video funzioni Ho vedo in due per Che magari se dura dieci minuti Passano cin Cioè ottimizzo E però se dire Per dire Quel video mi annoia Non lo vedrete mai E lo cancello Semplicemente Ho perso il tempo Ho perso il tempo E però ultimamente Non sto proprio a montare Video grossi Sto montando un pochino Di short Quelli si Ma i video grandi Non ce la faccio Oltre al fatto Che c'ho un video Da montare Che è quello De Rise of the Ronin C'ho I primi due puntate Da montare Ma non ce la faccio E quelle durano Mezz'ora l'una Vuol dire che io Devo stare là A vederle mezz'ora Ma chi è C'è un bot Qua Qualche volta Molte volte Molte volte Saru Molte volte Molte volte Infatti mi sono fatto Un bel po' De foto Robbe Sì 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 Però nessuno Le condivide Cioè pochi Sono stati Coloro che le hanno Condivise nelle storie Flo Grazie mille per la rosa Benvenuto Simone grazie mille Per il follow Regà adesso Mi devo concentrare Un pochino di più Comunque buon pomeriggio Quale cosa Finisce per Finisce per Ina Vabbè Se devi perdere Arriva Sì sì Oggi Si perdo Ci si perde Allora raga Ieri abbiamo fatto Sì Intanto benvenuto Buonasera Ieri abbiamo fatto Una sorta di Followers day Oggi Chiaramente La possibilità di giocare È aperta a tutti Coloro che sono VIP Oppure abbonati Al canale Si possono fare Ranked Possiamo fare Anche Volendo pubbliche Come sto facendo Già adesso E Speriamo di tirare fuori Qualche content Interessante E Mi raccomando Per parlare È necessario Discord Facciamo tutto Tramite il canale Discord Così posso gestire I vari audio Nei Mior moto Possibile Altra cosa È che Che stavo a dire Mese nome Scordo Altra cosa Altra cosa Boh Non lo so Altra cosa Non la so Intanto Bellasgi a Jack Che non avevo salutato Jack Bellasgi ben trovato E Buonasera Buon pomeriggio Anche a Beatrix A Derrick Io sto cercando di saluto A tutti Non mi devo dimenticare Nessuno Ho anche il buon Vicky Non c'è Ale Ancora non c'è Ale Quanti abbonati siamo Mi sembra che Svelte si fa Tipo punti scambativo Zab Vediamo un po' Non è possibile Non so come sia possibile Sì Cosa era ieri No no Mi sa che le regala Tra mezz'ora Le regala Alle 2 Alle 3 e 20 Alle 3 e 20 Per sa cognizione del tempo Alle 3 e 20 Regala Tanti abbonamenti Tanti tantissimi abbonamenti Vai che sono on fire Pronti eh Pronti eh Dai che siamo on fire Lì scuschi Sì Cos'è che si fa Felt Noi facciamo il possibile Lei segue questo canale Da Non lo so Ancora non esiste per covid Non esiste ancora Oggi Marino regala No Non dico così Vado in bancarota Francesco Grazie mille per il follow Un saluto alla terza B King Grazie mille per la condivisione Benvenuto E appunto Ho perso tanti aggiornamenti Bello vedere come stai E piano piano Felt Si cerca come al solito Di fare il possibile Sai che io ho peccato Molto nel tempo Di Costanza E adesso Costanza È diventata Una nostra amica Non una persona Costanza Inteso che Stiamo cercando Di essere sempre Belli attivi Sul canale Tutto bene Beatrix Siamo belli energici Anche se Ho indietro Alcune task Da fare Perché purtroppo La mattina Sono sempre stunnato E non lo so Mi ce vuole mezz'ora Per svegliarmi Soltanto mezz'ora Per svegliarmi la mattina Devo cambiare un attimo Le abitudini mattutine Io per dire Sto pensando Una di quelle volte Che vado a correre Di andare a correre La mattina Una di quelle volte La prossima volta Devo andare a correre La mattina Così quando torno So già sveglio Intanto grazie mille A Gerardo Per le 60 rose Rosi rosse Per te Ti ho puttato Stasera Marinocchi Perché devi trovare un'arma Se no te spadano Le mandano in lobby Subito Non faceva rima Ma va bene Marinocchi devi trovare un'arma Qui c'è un po' di gente Come è potibile E calla Già vedo passi Mamma mia Non ho trovato niente Solo kit medici Puzze Marinocchi devi andare via Là sotto Là sotto No Ma chi sono Regà Vabbè E Non lo so E balla pure quello Ma sono tutti Street snipe Ballano tutti Ballano tutti Sì sì Io l'ho ridato Il VIP Shavin Io l'ho ridato Tu una due ore Che c'è qualcuno Che ha messo peggio di me Allora Chi è che vuole imboccare C'è qualcuno Che vuole imboccare Tra coloro che sono abbonati VIP Buonasera Buonanotte Eccoci qui Eccoci qua Come vedi a partire questa sera Non la vedo Perché sto al lavoro Che cosa vedi Come la vedi a partire stasera Oggi sto al lavoro Mannaggia Mannaggia La sento Ma non la vedo È un gomplotto Che ne so Mi sta una spatola A destra e a sinistra Ai 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 Quando rifai follower day Non lo dico Jack Non dico quando rifaccio follower day Perché sennò poi la gente Arriva soltanto per giocare Perché non sei preso Da nessun discorso ancora È perché non sei preso Da nessun discorso ancora In che senso Non ho capito niente Sance Ah dici perché Per spadolare Per spadolare Qui player Ai 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 È un gomplotto Un gomplotto Che testa cucina Beatrix Di buono Non hai sentito Cosa non hai sentito Dio Vuoi fare un riassunto Mi l'hai preso a parlare Non mi ricordo Cosa ho detto Non mi ricordo Che cosa ho detto Ah giusto Sunshine sarebbe sushi Vero vero Arrivo io Dai Gigi Devo farlo parlare Ah perché più parlo Più gioco meglio Tipo una cosa del genere Due panini al volo Che ormai è tardi Con coppa e maionese Tipo i panini Che uno fa Per andare al mare Tipo quelli Beh Ieri la top partita L'hai fatta Mentre stavamo parlando Della vita Oh ma lo sai che Io mo stavo a pensare No aspetta Mi scusi Mi scusi Eccolo qua E sapete che stavo pensando Stavo pensando E quei discorsi Date farci un canale Tipo marinoski react Dove mettere Tipo degli shorts Dove dico quelle robe Perché metterli in ambito gaming La gente Mi frega niente Però prenderli Metterli in ambito In ambito Chiacchierato Così in un altro canale Potrebbe Potrebbe essere Di monito Per qualcuno Allora Ti aggiungo Ti metto lì In In partita In partita Se trovo Il mio server Eccolo qui Se trovo il server Eccolo qui Marino Chi Marino Chi Marino Chi Buonasera Eccolo qua Gigione Buonasera Buonasera caro Come va Ah buongiorno Mi scusi Hai ragione Lei oggi che ha fatto di bello Che ha fatto di bello oggi Coma Oggi Comato forte Davvero Forza A forza di giocare Poi Ti stanchi Non sembra ma ti stanchi Ho ripreso code Ho ripreso code È ripreso code Ma no Come hai ripreso code Come mai questa Incredibile di riprendere code Eh ho visto qualche Qualche live Ho detto basta Devo tornare però su code Anche se Eh giusto Senza mani Anche lì Però Come dicevo Ragazzuoli Oggi gioco Con coloro Che sono abbonati VIP del canale Perché sono i giorni normali A meno che non ci sta Una collaborazione Con qualche creator E a quel punto Facciamo imboccare il creator Di turno Ma si potrebbe avvicinarsi Anche altre persone Sapendo e conoscendo Dei pensieri È vero Sunshine Dobbiamo farlo Sto canale Tanto ci vuole poco E aggiungiamo Un'ulteriore cosa Al pentolone Al calderone Lì Mettiamo Mettiamo tutto Nel calderone Devo soltanto capire Quando ho detto Ste robe Che non mi ricordo Quando se date 4-5 ore di live È un casino Ma come ho scritto Vabbè basta che si capisce Non si preoccupi Arrivo anche io Nel discord Perfetto Perfetto Allora 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 C'è qualcun altro Gli abbonati I VIP Che vuole imboccare Jack ha messo Le motte dei cani Qui È bello Beh è un carlino Quello Quello dovrebbe essere Un carlino Ah dai Pur di non rimanere fermi Partiamo con una bella Terzetti Dai sempre zero costruzioni Gigione mi sa che lo devo spostare Gigione dove Eccolo là E dove sei Eccolo lì Salve Gigio Salve Gigio Buongiorno Buongiorno Se vuoi sì Se vuoi sì Se vuoi ti aspettiamo Come preferisci Hai attaccato la PS5 al PC Con la scheda acquisizione Sì Emanuele Proprio così Tramite una Scheda acquisizione Che si chiama Avermedia La Avermedia Ma se nessun Vip viene Giocano anche in un sub Non la faccio sta cosa Jack per un solo motivo Non come dice Pippo Per tutelare il canale Non per quello Ma per dare più vantaggi A coloro che decidono Di abbonarsi Perché paradossalmente E se Per dire Do la possibilità Come ho sempre fatto A tutti di giocare Tutti i giorni Uno poi non è invogliato A supportare il canale Perché dice Ma come Tanto uguale Uguale Invece Per la crescita del canale E per premiare Coloro che decidono Di abbonarsi qui Magari non da altre parti Perché non tutti Hanno la possibilità Di abbonarsi Su più canali Perché ognuno Ha Insomma Alle proprie disponibilità Ok Però ovviamente Io non voglio Lo dico sempre Non voglio Escludere Chi non è abbonato Però chiaramente Darò Uno Barra Due giorni Settimanali In cui sarà possibile Giocare con tutti Così come accaduto ieri Non posso dire i giorni Perché sennò La gente Caduta in passato Felt lo sa Felt lo sa La gente si organizza In bocca solo Quei giorni dove io gioco E Quindi magari Quei giorni Siamo tipo pieni De persone che vogliono giocare Non riesco a giocare Con tutti E quindi Quella maniera Vado a premiare Coloro che seguono Veramente le live Perché vogliono seguirle Perché magari uno Non sa Quando io gioco con le persone Però quella persona Se segue le live A una certa Si trova nel momento In cui io gioco In cui dico Ragazzi oggi Gioco con tutti E quella persona Si trova là Che già guardava le live In bocca Ok Vedete Ci avete fatto caso Che non lo dico Neppure su Instagram Proprio per questo motivo Qua Ce l'ho Come mi abbono col premio Basta che fai Il puttaschima di abbonati Lo faccio io Ah non l'hai fatto te Nel primo link Con il primo link Fai il collegamento Tra il tuo account Twitch E il tuo account Amazon Quando ti esce la coroncina Vuol dire che hai il premio collegato Una volta che hai il premio collegato Clicchi sul secondo link E a quel punto Ti puoi abbonare gratis Con la spunta Senza costi aggiuntivi Ma detto questo Buttiamoci subito Dentro il match Perché Dobbiamo andare A piazza E tanto Grazie mille a Mauro Per l'abbonamento col Prime A proposito dei Prime Grazie mille a Mauro Che ci porta 133 abbonamenti attivi Un obiettivo di 150 Ipotetico Che abbiamo messo Grazie mille Mauro Ora hai diritto a Come dice qualcuno Che conosciamo Ora hai diritto a Numero di telefono No no Non lo do Sto scherzando Il numero di telefono No raga Il numero di telefono No Comunque Hai diritto a Non vedere la pubblicità In live Quindi live Senza pubblicità Possibilità di giocare con me Oggi Insomma Quando si palesa La possibilità di poterlo fare Canali esclusivi Testuali Vocali Su discord La possibilità di utilizzare In chat Qui ed altri Sempre se si è consentito Altri Non lo so Le nostre emot Animate E non animate E la enorme gratitudine Del buon marinocchi Perché con l'abbonamento Mi permettete di andare avanti Si spera sempre Nel migliore dei modi Let's go Let's go Sì è così che si fa A numero di telefono No raga Lo darei volentieri Ma insomma E dicevo Chiamate A rotta di collo Ho atterrato uno Mamma mia Sobbero il ciccione Parte sobbero il ciccione La bomba La terra sobbero uno Qui c'è sta uno Che sta atterrato a me Non ha nulla Per il momento Dove vai Mi stai in legno Vabbè Un botto Un botto Un botto Ok ok Ma ci sono anche i robottini Quelli da tirare giù Vado Se fosse il nemico Invece era Un robottino Infatti facciamo collare Pure quell'altro robottino Ok Molto bene Ma io penso Saru Che quel detto sia Cioè alla fine Si è rimasto simpatico Quindi dai Ci sta alla fine Ok A me io sono la persona A cui piace condivide Le cose Belle Che si vengono a creare Non sono geloso Delle robe Non è che se io Per dire Sono stato il primo A dire O comunque Tra virgolette Mettiamo la cosa Inventare le sgoschi Vuol dire che nessuno Può dirlo No Possono dir Tutti possono dirlo Alla fine è una cosa Un termine positivo Non è negativo Quindi Per me va bene E mi diceva Gigi Mi scusi se l'ho interrotta Ma stavo un attimino A rispondere Se no mi perdevo Io ho ancora la corona Che abbiamo fatto ieri C'è ancora Ah perché ieri Una certa sei dovuto andare Che hai fatto di bello Ieri pomeriggio Dove sei nato O sei scelto Allora devo fare i compiti Dopo all'6 All'allenamento Ah e vedi Vedi Ho previsto La tua giornata Hai visto Prima la classe Cos'è uscito E' uscito Entrambe le cose Piano 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 Eccomi eccomi arrivo Chamin Gli spatola E' uscito Bravissimo A terra quello Che era One shot Anche l'altro One Ok Bravissimo E' l'altro Do sta Beh io li Termino Gli mandi lobby Entrambe Allora uno Non l'ho mandato Ecco Molto bene Qui c'è sta Un barile rega Se vi interessa Vai 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 Voi qua Vabbè Molto Molto bene Lascia l'ultimo Vieni Sono i ranked Mamma mia Nico Ranked Ai 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 Grande nico Ah E' subito questi Ah io sto full Rega Fate voi Fate voi Io sto full Non si preoccupi Sto full Lascio Ah quella canzone Mi sa che Non è su C'è tipo di Di joker O sbaglio Boom baby bye Mi pare di sì E' quella lì Che se uno si siede Casca per terra Allora come si chiama Uno youtuber Casca mentre con l'altro Se siede Allora Oh qua Ti ha ricaricato Questa Oh Nick Che si dice per il resto Eccolo qua Eccolo qui Eccolo qua Svuti comunque Se vuoi alla prossima Entra Entra volentieri Ah quello Six Non lo so Neppure io Quello Non lo so Neppure io Quello Non lo so Neppure io Che poi In realtà Se dice Sarebbero Va bene Quale remix Perché ho fatto Romix Mi sono attesa Su disco Perfetto Guarda Inserisco Già adesso Anche se non sta In game Ma che C'è Amelita Adesso De rancato De brutto Altro che champion Altro che champion So proprio De rancato De brutto Oh bella Svuti Salve 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 Svuti Adesso Adesso Quanto è che sei tornato In italia Passate due settimane Sv Ah si un mesetto Già un mesetto Mamma mia Io sto a perdere la condizione del tempo Hai qualche rimedio Svuti Qua il tempo passa in maniera Come dice Inesorabile Come diceva Pardon Mi è rimasto impresso Inesorabile Come è potibile Io ho scritto un paio di cose Su DS Off live Se vuoi leggere Aspetta che vado a vedere Ah eccolo Eh interessante Michi Interessante Ragazzi Non vi dirò Che cosa ha scritto Michi Per Far si che il mistero Alleggi nell'aria Però è interessante Quello che mi ha scritto Michi L'ho appena letto Poi ti rispondo Adesso vado a vedere Eh no Tanto non puoi andare a vedere Perché mi ha scritto Un privato E cosa voleva fare Cosa voleva fare Shavin La curiosità La curiosità No Mi ha scritto Niente di segreto Ragazzi Ho consigli Insomma Niente di segreto Niente di segreto Poi mi ha scritto L'ultima frase Brunin è capace A giocare a Fortnite Però vabbè Quello è un altro Quello è un altro discorso Michi Il fatto che Brunin Non sappia giocare a Fortnite E su là Dalle altre cose Che mi hai scritto 45 blu Pericolo con un botto di gente Oh amici Qua pure Sunshine Pure Sushi Volevano a vedere cosa Cosa avevi scritto Amici Qua Io non ho tutti Sapere I consigli Che mi hai dato Ma questi Sobottere Tutti i consigli Che mi hai Che mi hai Insomma Consigli Che mi hai dato Consigliato Insomma C'è C'è qualche cura Guarda Guarda Pure Felt Stavano a guardare E niente Non ha trovato nulla Non ha trovato nulla Io sono abbonato Devo fare altro No Semplicemente Tra un paio di partite Inbocchi Quella cosa che finisce Pere E giochi Oggi non l'ho messa La coda Non l'ho messa Semplicemente Perché per il momento Mi sembra che siamo pochi Se vedo che diventano Tanti abbonati Magari possiamo mettere la coda Ah questa è la coda De ieri No ma in realtà Bruni Per il momento La coda possiamo anche Non metterla Per il semplice fatto Che tanto è chiusa Quindi Che dici Devo mettere la coda La coda Dei Dragon Ball Dobbiamo metter Chi è Eddie Chi è Eddie E niente So calato Milita So calato So calato Le sgosghi Si è così che si Giuseppe Ma cosa scrive Cosa sta scrivendo Giuseppe su tiktok Le sgosghi Si è così che si Giuseppe Non la utilizzi così Non la utilizzi così Quella frase La prego Le prego Non la utilizzi così Quella frase Non mi sembra molto Che si Si è così Si è così che si fa Comunque Allora Ciao Aria Divina Buon pomeriggio Buon pomeriggio Bella Ski pure al buon Tyler Ciao Tyler Come stai Ciao anche Eddie Sono io Eddie Eddie oggi non è follower day Oggi gioco con coloro Che sono abbonati O VIP del canale O se ci sono altri Creators Dei creator Ma vediamo Ah Eddie ma ha scritto pure Su tiktok Regà mi raccomando Io lo dico Tiktok non ci sta più spingendo Continuerò a pubblicare short A fare live Così Tanto per Ma puntiamo su twitch In questa fase Bisogna puntare su twitch Perché L'obiettivo è diventare partner Ve lo ripeto L'obiettivo è diventare partner Ieri era passato Nico In live da te Chi Nico Nico che Nico è un amico di lol Forse No Non l'ho letto Bruni Ma lei se ne esce un giorno dopo Ma Bruni A lei è incredibile Ma Bruni mi dice le cose Un giorno dopo Regà come dovrei prenderla Ieri ho voluto fare il protagonista Stava per perdere il VIP Manco mi ha detto questa cosa Ma la dice il giorno dopo Ah Bruni Ma com'è potibile Ma lei perché non mi dice queste cose Cioè me le dice il giorno dopo Ma ormai tutto è passato Io veramente Non ho parole Bruni Bruni raga Non sa quali sono le Cioè Non lo so Non lo so Non lo so Bruni è incredibile raga Con i primi ti sabbi gratis Hai la possibilità di abbonarti gratis A un creator Al tuo creator preferito Una volta al mese Però chiaramente Che t'ha detto a fine live Mi scusi Che sburti Ma no aspetti Lei glielo ha chiesto Lei mi va a spammare su altri canali Mi fa rischiare il ban Mi fa rischiare il ban In altri canali Non capisco E Bruni raga Ma in altri canali Dice Marinocchi Marinocchi E Bruni Non va bene qui Non si fa pubblicità negli altri canali Mi scusi Dai sto scherzando Ah è giusto Ah anche lei fa così Ma com'è potibile Ma lui vuoi Mi udire Io collegato qua Mi fa pagare No non hai collegato bene Jack Perché non esci dalla spunta Della coroncina A fianco al tuo nome Quindi hai sbagliato magari Qualche passaggio Entra sul profilo di Mari Dovrebbe esserci l'opzione Ah quello si si E pensa a Blur Let's Ma anche Goski Mi dica Mi dica Mi dica che ero Nick Mi dica che ero Nick Oh Oh Ehi C'è il tizio verde acqua Sulla destra Craccato A terra A terra il tizio verde acqua Quello rosa Ora quello rosa 102 136 a 1 Però ho 9 di vita Quello rosa a terra Regà Quello rosa a terra Jusson abbiamo un problema qui Ci sono persone che vogliono andare in lobby Sì proprio loro Ce le devo mandare qui Devo mandargli in lobby Dove è l'altro regà Dove stanno Cioè c'è solo sto bot che è mo' Lo spatolo E' gente che è andata via Terminarò a quelli a terra Uno fatto L'altro dov'è Non lo so Come parlo regà Come sto per led Ah regà Stanno Sono andati in là Da quelle parti Sì Fatto fatto Ma in occhi Essendo che Sono una persona sbadata Dove possiamo seguirti Perché non ricordo Ragazzi mi raccomando Che oltre a tiktok e twitch Esistono altri social Nel quale potermi seguire Dove potermi seguire Con instagram Youtube Trezza E anche facebook Addirittura E potete entrare A far parte della community Facendo punto esclamativo Discord in chat Una cosa Molto importante Mi raccomando Ma che gigio Non si è caricato abbastanza Mi stavi proprio Ai 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 Di là c'era uno sceldone Ci sei preso Io non ho detto nulla Nico Ieri live Dopo che sono passato a salutare Mi ha detto Che ci facevo Il live da te Ah Il buon Nico E tu E a quel punto Io dovevi dire Io conosco Marinoski Dall'alba dei tempi Da quando i peniti Si dovevano ancora allineare Da quando Da prima ancora Del big bang Addirittura E come potevi dire Brone A quel punto Potevi narrare bene La storia A quel punto Potevi narrare bene La storia Oh Flavio Flavio Mi sa che oggi Se vediamo Guardaccia la miseria Guardaccia Mi sa che oggi Flavio Se vediamo Aiaiaiaiaiai Comunque si Boh Proprio così Come ti chiami Marino Per gli amici Marino Chi No Marinoski Marino O anche Marino Chi Marino Chi Gli ho detto Ok Ah 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 Aiaiai Gli ho detto così Ah 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 E mi ha detto Ah ok ok Ah ha spento l'entusiasmo Ai 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 Sei finito nella sua blacklist Caro Broni Non volevo dirlo Sei finito nella sua blacklist No la sento solo Frero Stasera Perché sarà un lavoro Speriamo possa andare tutto bene Dagli questa Roma Sì sì Sono d'accordo Speriamo bene Più che altro Perché fuori casa Mi sembra Questo primo incontro Quindi speriamo Speriamo di strappargli Un bel risultato 16 61 Marino Chi Marino Chi Ciamine questa la dobbiamo vincere Gigi Mi raccomando Eh sì 16 ancora Eh quello è craccato 27 27 due volte 27 due volte 27 bianco due volte E' scappato Andiamo 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 Ah no Nel box Mi sa Il topola E' dato Jack Sei buona Col prime Grazie a Felt Che gli dice Esattamente come fare Eccolo qui Jack Jack E' così Grazie mille Jack Abbonamento col prime Jack c'è riuscito Non ci posso credere Non ci posso affatto credere Scusate Regate un attimo Andavia Un attimo Andavia Che mi stanno Spatola Ha fatto L'errore A spadola Il bot Ma messa Una spadola A me 304 102 A terra 1 L'altro One Scusami Mamma mia Il duo Composso del gigione Chavin Gli spatole Li manda via Regà Vieni A voi Aspetta me Regà Io stavo lì Per fini Lobby Vieni Vai 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 Con l'impulso Ma Sono scappato Grazie per le cure Grazie E sì Lavoro Detto anche Il topolastro Ebbene Sì Flavioski Ebbene Sì Flavioski Ok Impulso Me ne tengo Oh Regà Passi 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 Sì 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 Vabbè Ma Questo Questo La Fini Lobby Si Chiamava Bur Nick Tutodire Vuol dire Oh Ma La prossima partita Puoi andare Puoi uscire Puoi uscire Con gli amici Ok Allora Spatolatemi Spatolate Grazie mille Ancora di cuore Jack Grazie per il supporto Germar Buon pomeriggio Ehi so Germar Siamo scappati con l'impulso Giusto giusto in tempo Anche se la prima impulso L'abbiamo buttata Letteralmente Via Non si sa perché È successo qualcosa Perché L'avevo utilizzata Ma sono andato a sbatte Contro un muro E Probabilmente La sono andata a sprecare Cioè è stata proprio sprecata Vado a tagliare i capelli Marie Ti va a fare un bel taglio fresco Io mi sa che Ce devo andare Tipo tra tre giorni A tagliarmi i capelli Perché prenoto De mese in mese E siccome Mi li ero tagliati Il 14 marzo Mi sa che è il 14 aprile Quindi a breve Dovrò andare a tagliare Anche io Andiamo a rifrescare Un pochino il taglio Eh io mi li taglio Una volta ogni tre mesi Infatti adesso Mi chiamo E beh Lo sai che Io ormai Mi posso più portare a lunghi Quindi a una certa Sono tra virgolette Obbligato D'andare a tagliare tutto Tagliare tutto Insomma A risistemare il taglio Ecco Com'è potibile Felt Com'è potibile Felt Ancora C'ha la speranza incredibile Di rivedere Hitman In live Un sogno che Un sogno che Spera di Di concretizzare Viamo poi Rivedere su questo canale Una live A tema Hitman Sono solo un bot No come sono solo un bot Comunque siamo in 10 Felt è una delle poche persone Che sono riuscito A far giocare A Rogue Company Un gioco che portavo ai tempi Ti ricordi Felt Sono riuscito A quei tempi A farti giocare A Rogue Company E quello è stato Un bellissimo traguardo Bellissimo traguardo Eh 2000 ID Sì 2020 Bellissimo Rogue Ricordi Top Ma mia Ancora esiste Però non lo aggiornano Da un po' Povero Rogue Company Io ho bastito Non te l'aspettavi Eh Nick Ai 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 Il Nick Non se l'aspettavo Ora mi faccio I tuoi stessi capelli Ai 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 Ma buongiorno a lei Lostino Buongiorno a lei Caro Lostino Lostino Mi raccomando Occhio che in chat C'è quello che vuole Fai il protagonista Ieri stava a perdere il VIP Lo dico Quindi mi raccomando I tuoi messaggi Nel senso C'entro Mo se stanno a tagliare i capelli Quindi Ci sarà meno protagonismo in chat Mi penso sempre Ogni tanto Eh sì Ogni tanto Tipo rispunti fuori Da là Tipo Tipo Halloween Come qua Come i non morti Di Resident Evil No Non proprio come quelli Regà questo vende Il pompa nuovo Blu E Viola Come c'è uno qua Come c'è uno qua Ah si passi Aia No ci credo Eh sono due Niente L'ho trollato Guarda la più fortuna S'ho crepato prima Sennò sarei morto Col medaglione Mamma mia Il timing è sbagliato Il timing è sbagliato Se mi fosse successo Donate il fight Sarei morto Letteralmente Invece ero morto prima Ero morto prima Regà non mi hanno finito Mi hanno finito Regà non mi hanno finito Io sto ancora a terra Lontano Se qualcuno di voi Riesce a venire da me Mi potete rianimare Stanno arrivando Stanno arrivando Eh aspetta mi nascondo Eh guarda che so tre So tre ragà So tre Prendete l'altezza Eh si uno Capri mi copri Mi che io lo resto Ciao Ti prego salvami Tenta Gigi non ti fa buttatera Se no Non lo porta qua Non lo porta qua Gigione Perché lo hai fatto Ok uno C'è Arriva C'è Siamo arrivati Siamo arrivati Alzati Via 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 Tieni Medici Eh devo lasciarmi Traietta cara Mi traietta Addio Addio Mi traietta Oh regà Siamo arrivati In sette Occhio Ho trovato a terra Aspetta Mi sofferti Interrega Occhio Mi serve qualche Secondo Ma rovinato Ma rovinato Calma Si l'altro Ma Una a terra L'altro Ma rovinato Ho messo Io Buono per la bolla Vieni qua Che c'è Lo champagne Fai Non 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 Sotto La luna Marino Che Eccolo Qua Mi deve Manda Tutti I Lo Digione Tu Medaglioni No 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 Ti Regà Ma Ne Mancano Due Grazie mille Lenia Per i Cento Bit Vi fa Spatola Soldi Oggi Non C'è La Coda Semplicemente Oggi Quando Vuoi Gioca Me Lo Dici I Soldi Però Messa Che Stava Diventa Un Pochino Tanti Mi Sa Che La Coda Dobbiamo Apri Che Dite Dopo Non sono andato Dal barbiere Realtà Ile Sono davanti E Semplicemente Che oggi Mi so Pettinato Forse Meglio Delle Altre Or Forse Ecco L'altro Che Si vince Senza Merito Su Fortanet 2024 Grazie I Mette De Squadra Le Sì E Così Che Si Fa Che Di La Facciamo Raga Facciamo Sta Coda Facciamo Due Partitine No La voce mia Coperta Live Facciamo Due Partite A testa Facciamo Che Tanto Oggi Solo Abbonati VIP Allora Facciamo Due Partite A testa La prima L'avete Fatta Voi Svuti Mi Devo Ricordare Che La prima Invece De Svuti S Erano Già Prenotati Che Sui Primi S Arrivati Facciamo Così E Facciamo Finta Facciamo Finta Allora Mettete Pronto Allora Quella Cosa Si è Prenotato Io Dico Ancora Quella Cosa Quando E Quella Cosa Che Sta Succedendo In chat Che Partono Tutti Come Puttimi Intanto Grazie Milla D'Andrea D'Alan Per Il Follo Ma Io Sto Legge Tutti I Messaggi Da Chat Si Spero Pote Si Rega Niente Tolga Il Meglio Meglio Metta La Coda Ma Io Non Ho Capito Sta Cosa Il Fresco De Zona Che Vuol Dire Quando Leggo È Tipo Un meme Che Rob'è È Un meme Di Dei ragazzini Abbastanza Giovani Diciamo Che hanno fatto Un'intervista Su tiktok Ah ok Vabbè Non è una cosa negativa Insomma Nel senso Un ragazzo Che chiesto Come si chiamavano E questi hanno risposto Fresco di zona Ah Così Ok 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 Eh no Perché No Non è che Non c'è Nel senso Ho sentito Di sta roba No Perché Poi Fa morire Quei ragazzi Quando apri I tiktok Ormai Ci stanno 200.400 Meme E sta meglio Devo champagne E là Poi c'è Sta Il fresco De questo qua E poi Insomma Ce ne stanno Però alcuni Mi conosco Direttamente Lei Quindi C'ho paura Un pochino Ai sport Perché poi Magari Che ne so Possono essere I esempi negativi Che ne so Cose brutte Magari uno Non lo sa E ripete Tipo i pappagalli Poi magari Va a finire Che c'è una storia Dietro Non proprio Carina Quindi Cerco sempre Di informarmi Prima Di Di ripeterli Ti fai meglio Dello champagne E beh Sono meglio champagne Alla fine Se c'è Penso C'è Nel senso Ho capito La storyline Dove Cosa ruota attorno Però alla fine Se c'è Menzi Fa ride Come Ti strappa Una risata Poi All'infuori Di quello Che è successo Però La frase In sé Divertente Allora Ci ho messo 3-4 giorni A capire Che cavolo Voleste Tipo Ma Non ho visto Mi è stato raccontato Andiamo Andiamo Ah no Aspetta Andiamo qua Monte Olimpo Dai Ci sarà un po' Di Sì Ma se Vedete Che è in Chiave Ironica A me Mi è dispiaciuto Soltanto Quando è andata La zanzara Che hanno Esagerato Un bel po' Lì Mi è dispiaciuto Un po' Perché insomma C'era nessun motivo Però poi Ho visto Che il presentatore Da zanzara Se è scusato Quindi Alla fine L'importante Ammette i propri errori E gli errori Che facciamo tutti Faccio pure io E non credere Che gli facciamo tutti Gli errori Però lì Per lì Quando ho visto L'intervista Che hanno fatto L'ansomma Pure io Stavo là Dico Bah Però Ragazzi Io ho Appunto C'ho lo champagne De fortinet Venite qua C'è appunto De champagne Stavano C'è gente qua Da noi Occhio Arrivi Sta cosa È Chrissimone Ma la dovete spiegare Come è riuscita Come è riuscita Di nuovo fuori Nel senso No terra Quella ma la dovete spiegare Che non lo so Quella non lo so Però fa ride pure Che la canzoncina Però non ho capito Che cosa voglia dire Che uno cammina lento Che uno cammina tutto Boh Secondo me Non vuol dire niente O passi da me Capita proprio Quella proprio pure Non mi son manco Voluto informare C'è uno qua C'è uno qua C'è uno qua 5-105 Aia Mi sta spoto lei Tanto su di si sta Gli sta mandando 120 Aia Che è che è messa Mamma io questo fa Va male Eh io Tanto state full Tanto state full Tanto state full Eh ma adesso Eh la canzone Non me la ricordo Molto bene Perché era tipo De una pubblicità De biscotti Tipo Occhio che adesso Nascono i suoi film Ma un giorno Dobbiamo fare il karaoke Dobbiamo fare il karaoke Ci mettiamo pure Christine Bond Nel mezzo Oh mamma mia Seria No ma finiti colpi a salto Anch'io A foto foto Occhio che c'è la zipline Prendete sopra No dmr Prendete un logo il dmr C'avete un kit medico regà C'è una banana Ma c'è un più Pugli potassio per cortisie C'ho solo il dmr Dmr mamma mia Carina Sì Fra Grazie mille per il follow Non mi fa fortuna Mi dice nuova pace Disponibile Avviare il gioco Ma non va Ma lo sai fra Che mi è successo a me 3-4 giorni fa E Un bug bruttissimo Mi è successo su playstation L'unica cosa per risolvere Sai qual è stata E' stata quella di cancellare il gioco E ristallarlo Fortunatamente mi accadde tipo la sera Quindi tanto non dovevo giocare a fortnite Perché non ho streamo la sera Ok E di conseguenza Ho messo a scaricare E poi si è ristallato tutto Ci ha messo un bel po' Perché fortnite non è leggerissimo E Sì Come se ti dice di fare aggiornamento Ma non si avvia Poi avvi il gioco E ti dice di fare aggiornamento E' un bug bruttissimo Non so Non so il motivo Cioè come è accaduta sta roba Ma ogni modo ho risolto Cancellando il gioco E ristallando tutto A raggiungimento 150 sub No no Dica così Poi mi devo cantare veramente Dove sei Player per caso Scarsa nella vita Ma come si chiama Ma chi vuol dire Scarsa nella vita Mi dia una definizione Ile di scarsa nella vita Cosa vuol dire Cioè nel senso Cosa intendi Quasi gente Ciao Sergio Benvenuto Cosa ne pensi di sole Boh non so chi è Non so Non so Non so chi è Buanna Quello è bianco Scarsa scuola per forza Ah scarsa scuola L'hai ascoltata la canzone di Maria Sofia E no E credo che non l'ascolterò ragazzi Conventi conviene Credo che non Che è una sfiga addosso Che la metà Ma do addirittura Sai che uno più pensa di essere sfigato Più la sfiga ti viene addosso Piccolo segreto Non lo dirà nessuno Anche qua sopra Più uno è negativo Più la negatività Ti avvolgerà Io una volta ero molto negativo Regà E mandavano tutte le cose Negativamente Da quando penso solo positivi Cioè poi è chiaro I problemi Oh i problemi regà Stanno tutti i giorni Però uno deve pensare positivo Se no non te ne libere Ricordatevi sempre che Se riuscite Cioè Le cose di Oh Bisogna agire Io per molte volte Ho procrastinato Procrastinare vuol dire Tipo mettere da parte i problemi E non affrontarli E poi diventano sempre Degli ammassi giganteschi E quando ci stanno delle cose Che è Dei problemi Bisogna trovare il tempo E la voglia di risolverli Anche se è difficile Ma una volta che li hai superati Il tuo corpo è pervaso Dei positività Te senti come un'aurea Attorno E dici Porca miseria Ce l'ho fatta Diabile Eccolo E' una messa qua A terra A terra uno Ma sono Eccoli Sì E uno E due Uno mi ha sciolto Per il buttere del ghiaccio Vabbè dai Qua ho esagerato A ballare però Mi rendo conto Ma avevano la skin uguale Mi sono gasato Chiedetemi perché Avete il balladone Ah ma tu le Oh Mi rendo qualche colpo io Ahia ed è fatta Giù a destra Là sotto Ecco là sotto Qua 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 Cattivo qua Eccolo Non l'ho colpito manco Mezzavolta Ok bravo Morto morto Molto bene Molto bene Pure qualcuno Senti una cosa Sono presente O lei c'è la prise Ho lo champagne Per quello No dico Basta chillare Lo studiare Eh se no Felter resterebbe qui Tutto il giorno Ciao Sofia Leskoski Ciao sci Ciao Temi Venuti ragazzuoli Oh Emanue Grazie mille per la rosa Mohamed Grazie mille per l'ulteriore rosa Poi c'è un altro Da Da sfatolare Oddio stavo a leggere Il messaggio dei mici Mici stavo a leggere Il messaggio Dove un attimo Stavo a leggere Il messaggio dei mici Pensando fosse De De jack Le richieste Le mando soltanto A coloro che partecipano Alle live streaming Considere che Discord È una piattaforma gratis Quindi se uno Per dire YouTube Può avere anche Discord Non c'è niente di È abbastanza semplice Creare un account Discord Caro jack Faccio così Perché se no Non si riesce a capire Come lì Ok Prendetelo pure voi Io già ce l'ho Medallione Quindi Giusto lo prendiate voi Io non sono Non sono mai andato Lì Carissimo Che player Questo marino Chi Marino Ciao Riccardo Grazie Regà domani Quanto mi dispiace Non poter vedere Fare la telecronaca Delle fncs Regà Non potete È perché sto al lavoro Domani mi stai Le fanno la sera Io domani la gioco Domani giochi Mi raccomando Mi raccomando Domani devi fare Faville Faville Ma secondo te marino Stasera L'Atalanta Dal Liverpool Quanti ne prende Eh ma non ti crede Non sottovalutare L'Atalanta Non ti crede Ciao Ho aperto Benaschip Ben trovato Come stai Non ti crede Che l'Atalanta Potrebbe tirare fuori Dal cilindro Qualche Performance Incredible Vedi anche discorso discord Non sono riuscito Ma che Quella è una cavolata Quella è una cavolata Ah e discord Alla fine ci avevi parlato Attraverso discord Alla fine ci sei riuscito A parlare Quindi GG Sì è così che si fa Perché stai taggando Broney Perché stai taggando Il buon Broney Ma broney Si è andato a tagliare i capelli Non ti risponderà mai Ora ha lasciato L'urk Alla live Ha lasciato L'urk Alla live Come fa solitamente Anche sushi Marinov Come farà Solitamente anche sushi Scarroll Grazie mille L'avagonamento Tre mesi Ma come è potibile Lo dico io Come è potibile Come è potibile Ti Le Come Eh Sunshine pure Ha lasciato il urk Che vedi Cosa hanno cambiato Con aggiornamento Hanno messo un pochino Di personaggi non giocanti Hanno messo un pochino Di robe Ah Modalità podcast Sushi Modalità podcast Marinocchi in sottofondo Marinocchi Sette sottofondo Ah Vedi se te tagga Nick Che cosa stai con me Ma che Nick Ogni tanto Ha il presentimento Che qualcuno Si possa addormentare Durante le live Quindi tanto in tanto Se mettergli a tagga Per assicurarsene In un senso o nell'altro Che fa? Lavori al pc The Sunshine Umarro innanzitutto Grazie mille Per l'abbonamento Di oggi C'è ragione Io La chiamo In tutte e due Le maniere E marro Innanzitutto Grazie mille Per l'abbonamento Di oggi Lavoro in pizzeria Faccio il cameriere Ma sono un aspirante Content creator Nel senso che mi piacerebbe Inserirmi Professionalmente Sempre di più In questo mondo Ci riuscirò? Non lo so Ci sto provando? Assolutamente sì Invece che andare al comico Qualcosa del genere Andiamo tutti a mangiare da marino Tutti Ah invece 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 di andare là Sì Sì Vediamo noi là Ti facciamo la sorpresa Se ci dicesse dove la pizzeria Eh ma lo sai qual è Brutto poi Perché io durante il lavoro Non riesco troppo a Cioè sì Mi riesco a scattare le foto Sì E per non non riesco a stare Dietro i discorsi Quella è una cosa brutta Mannaggia Perché a me mi piacerebbe Fermar me là Ma poi dopo i colleghi Incominciano di più a guardare Con occhi di sospetto E tipo Lo sta facendo apposta Per non lavorare E dove li spatoliamo No 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 Ti metti là Col dmr da lontano Con dmr Prendi la mira Tanto stanno fermi Tanto stanno fermi Let's go Schi Eccolo È tutto invidia Perché loro non possono Ai 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 Alla Bruce mi dice Immagino Si riferisca a Fortnite Ti fai dominare o domini E dipende dalla lobby Se incontro i player fortissimi È un problema Se incontro i player alla mia portata Cerco di spatolarli Bruce E mandargli il lobby Let's go Let's go Sì Giuseppe grazie mille per la rosa Sì Sì così che si fa Giuseppe Alla c'è gente Mi sa No 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 Dico Gente Ecco C'è qualcuno Che spara Questa terra Grande Svudi Svudi Lo hai spaventato Literalmente Svudi Let's go Let's go Let's go Lei proprio Non è nascendo di ispirare Alberico Ciao Ciao Ci siamo sull'isola Io devo un attimo andare nel bunker Che Marì ti seguo da poco E non ti ho conosciuto Per il meme Ma per la tua simpatia e bravura A fare tutto ciò Grazie mille Alberico Gentilissimo Alberico Speriamo Speriamo Qui Marro Io ci provo ogni giorno Vediamo che cosa si riesce Non specifico Non è il caso Ah eee Ah ok ok Sanshion Sushi Non le farò Non le farò domande ulteriori Sul lavoro E magari Sanshion dice No non sto lavorando Io sto qua a lavorare Nel senso sto facendo roba A pc Ok Benissimo Benissimo Sushi Alla fine Sanshion Lavoriamo tutti al pc Quindi Anche il semplice Guardare una serie di netflix E lavorare No non è vero Sto scherzando Magari 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 Per alcuni si però Per chi fa recensione In effetti Pensandoci bene Si Anche guardare una serie netflix Potrebbe Guardate questa cosa Della hits Io quando ero piccolo Dicevo Hits bots Dicevo Hits bots Adesso con netflix Era uscito La stessa cosa Ah vedi Ah vado l'altro Sanshion Lei L'altro sta cosa In privato Lei mi Dova di delle cose De twitch Mi ricordo Cara Sanshion Terra Mi scriva Le cose che mi voleva Di twitch Lì Dei consigli L'amo Mi sono ricordato Mi ha fatto ricordare Che se sono Consigli Consigli validi Mi fa piacere Perché Io dico sempre Che non si finisce mai Da imparare Quindi se ha consigli Su robe Che magari potrei Non sapere Nes go Nes go Nes go Nes go Grazie Per forza Non mi sono ricordato Io tante cose Mi perdo Io sono uno Di quelli Che si deve segnare Tutte le cose Ma mi dimentico Mi dimentico Troppe cose O le scrivo O le faccio audio Infiniti Ma come C'è uno da me Come preferisci La cosa che ti ruba Meno tempo Eccolo qua E' sta Spolazzana Aguila Ok No mi sa che Spadolato Spadolato Stava qua sotto Spadola C'è qualcun altro Che spara No Sbagliato Direzione Direzione 44 Rega col cieco Col cieco Adesso Mesta mira Mesta lancia Le robe Mesta lancia Le robe Lo vedo Ok Ha lanciato male Le robe Rega Se volete Lo push Quanti sono 1 2 Riuscite a vedere Sono parecchie Parecchie Lancia Posso andare Con l'impulso Un team Ragantino Una qua in zona E l'altra più dietro 116 E allora Non posso pusharli Non posso pusharli A me sicuramente Gli audio Allora fai Audio Va bene Dietro sto Ora vada qui La sance N'era per dire Che mi ero scordato Quindi Se non mi avessi scritto Qua cosa Probabilmente Mi hai scordato Rega E c'è qualcuno Ma pushato Vado io A terra uno Mi ho preso Terra un altro Quello lo completo Però L'arrivo Amore Si si ma me ne sono andato Me ne sono andato Eccolo è bravo Pia Traccato A terra terra Bravissimi Brai 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 Molto bene Molto bene Molto bene Che mi spara Ma non capisco Da ferrovia Questo c'è Al coso mitico Rega c'aveva pure Il C'aveva pure Il metaglione Ha pure il metaglione C'aveva Leskowski Dove lo può vengare Questo Dietro O dietro Raga Devo andare E se volete Si Se volete Si Se volete Si No no Io mi ero Proprio dimenticato Nel senso Che adesso Mi sono ricordato Mi ero proprio scordato Mi ero proprio scordato Mi sto ricordato adesso In quel senso Qua sotto Qua sotto Qua da me Mi spatola E fatto Niente Grandi raga E Ti è due shieldini Se non ce l'hai Ci giaccio Se riesci ad andare C'era Grazie E kit medico Ce l'hai Eschi No Medikit Era sul lì Ma lo vado a prendere Ma in realtà L'avevo visto pure sotto Io Medikit qua Prevo Trovato E' l'interio qua L'interio Sì sì qua Lì Meglio così Odiamo Questa per la montagna Lì ci sono gli scendoni Ma io c'ho due medaglioni Top Top Ho due medaglioni Top Ciao Frank Ciao Anto Mi trovate i ragazzuoli Vuoi dire Dice mali Ne scusi Che ne sco Ho appena fatto Eccomi qua Ok ragazzi su tik tok Se volete supportarmi Mi raccomando Seguite la visu twitch Che si vede meglio Si vede a tutto schermo E possiamo raggiungere Gli obiettivi assieme Come quello della partner Che vorrei veramente raggiungere Entro la fine dell'anno Se potibile Se potibile Se potibile Giuseppe grazie mille per la rosa Manuel grazie mille per Il follow su tik tok Mi raccomando Seguite su tutti i social Che pro Aperto Non è così Andiamo al rank Da vedere che ci fanno Ci spedulano tutti Dal primo all'ultimo Come potibile New York Grazie mille per il follow Su Second bot Comunque a terra C'è altra gente che sta arrivando E io sono indietro Arrivo Ok Mamma mia T'ho rubata tantissimo Sudi Mi dispiace Non pensavo Non pensavo Non ti preoccupi Non ti preoccupi Eh siamo qui 20 però La safe è piccola Safe si fa sempre più piccola Maledizione Oh si E non lo dico mai Non lo dico mai Perché altrimenti Si presentano tutti Lo stesso GGG Nemmeno il tempo Di spiegare qualcosa Nemmeno il tempo Di spiegare qualcosa Che si fa subito Un lesgosgi Si è così Io ringrazio Il carissimo Sciamine E il buon gigione Per le due partitozze Ovviamente Svutine Ha un'altra Da fare Se volete Rimettete il join E intanto passiamo Per forza Vediamo pure Che è in lista Ci sta soltanto Quella cosa In realtà Ci sta soltanto Quella cosa In realtà Quindi Aspetta Aspetta Quella cosa Lei c'è Quella cosa Vediamo se Quella cosa C'è Quella cosa Quella cosa Dovrei dire Qual la cosa In realtà Dovrei dire Qual la cosa Comando Gli altri Che sono abbonati Upip Che vogliono Giocare Ponte schemativo Join Se volete Più tardi Magari possiamo Farci anche Delle ranchettine Per chi vuole Rancare Stai sicuro? Io ho detto C'è ma per dare Un po' di bella Live Sono Anna Certa Se scocciamo Che parliamoci Chiara Ci scocciamo Proviamo a fare Queste Ranchettine Ci scocciamo Se no Ci scocciamo Se vuoi Esco anche Da DS Va bene Va bene Giusto Dici così Almeno Non si crea Un vero Casino Diciamo A livello Di turno Di turno Di nuovo Va bene Va bene Di giù Che magari Tu non potrebbe Esta brevissimo Perché noi Dobbiamo Vedere un attimino Se quella cosa C'è On fire Prontissimo Eccolo là A me sa che Io alle 4 Vado sempre Quindi niente Eh beh Sarà Prossima Tanto Ah Sia Vina Mi sa Che devi Rientrare Perché Siete Un uovo di in coda Incredibile Ciao in oggi Assurdo Ti fa subito Altre partitozze Qual la cosa Mi sembra che era Se la memoria Non mi inganna Fa curo Fa curo Fa curo E lei che si è messa A fa gigio Se deve andare Mamma mia Caro gigione Il caro gigione Ciao Davide Bentrovato Benvenuto Allora Fa curo Eccolo qua Ma fa curo Lo spostiamo Su discord E tanto ieri Ha pure parlato Carissimo Questo è un esempio Di Che ti avevo detto Ieri Che esempio Lo shop su discord Ah quello automatico Dici erig E devo vedere Se c'è sta quel bot Lì che possiamo utilizzare Pure su sto discord Ma lo vediamo Lasciami Ne lo spostiamo Fa curo Quando vuoi Mettiti in salata Attesa Che ti sposto In vocale Si ho visto Sia Hai visto Mamma mia Da quanto è che Non ci sentiamo Mamma mia D'alto Grassi militato Per le 5 Trasmissioni consecutive Guardate D'alto Let's go Eccolo lì Oggi non ci abbandoni Vero Non vai a correre No oggi vado al lavoro Oggi è peggio Oggi è peggio Allora è peggio Anche se non corro Lì cammino E cammino parecchio Però Sia L'importante E andare avanti Con le live L'importante Andare avanti Con le live Quello è l'importante Tanto alla fine Noi sempre Le nostre 3-4 ore Ce le Ce le facciamo Nel chilling Più totale Altre volte Altre volte In maniera più competitiva Quando c'è da Devo mettere pronto Quando c'è da Da fare le ranked Però ci proviamo Ci proviamo Devo soltanto Sai che succede Ciao Io la mattina Ho un vizio brutto Che mi sei venuto a creare Vuoi sapere di che vizio si tratta? Allora io c'ho la sveglia Sempre alle 8 o meno un quarto Barra 8 8 e mezza Ho L'errore Incredibile Di svegliarmi E andare sui social Che ne so Guardare Spubblicare qualche storia Guardare un po' di roba Pure su youtube Guardare Qualche serie Su netflix Sto guardando Il problema dei tre corpi Giusto per far Anch'io l'ho iniziato ieri Eh io me lo sto a guardare Ma molto a rilento Quindi Magari sto più avanti di te Ma per un discorso Che hai iniziato ieri te Sicuro Ciao Facu Facu Ciao Facu Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio No dicevo Facu No C'ho sto problema Che io mi sveglio la mattina E Non ho Cioè mi metto a guardare qualcosa A cellulare E poi Non mi alzo subito Di conseguenza Mi riviene Mi viene il secondo sonno E poi mi risveglio Tutto rintronato Alle 11 Cioè non c'ho quella cosa Quella forza fisica Ma magari Io quando mi sveglio Basta Non mi addormento Perché poi comunque Lo sai che penso Penso che comunque Ho un po' di tempo a disposizione Lavoro la sera Se devo andare al lavoro Però se io mi alzassi la mattina Potrei portarmi avanti Con il montaggio dei video Sarei più stanco Quello è vero Però Bisogna Devo trajardare Devo trajardare Perché il tempo c'è Va usato bene Quindi domani Quello che farò Appena suona Sveglia alle 8 Mi devo alzare Per favore Devo inventare Per quello sto pensando Di andare a correre Anche un pochino La mattina Per avere la scusa Di capito Alzarmi Do andare a correre Mentre do Russo Mentre corro Basta Mi faccio Ficca sotto Però Importante Che Importante Che Mi Poi Cameriere Comunque Anche pesanti Io facevo I catering Il matrimonio Vabbè Forse Quelli Ancora Più pesanti Però Mamma mia Sei un grande Ti ho chiesto Una foto Dal deus Ce la siamo fatta Allessa La foto Sì Io Mi fermo Quando qualcuno Chiede la foto Pure se C'è Stanno 200 Pezzini Aspettati Non è vero Sto scherzando Non faccio Ragazzi Campi Candidi Caro Dove Volete Hai fatto Bene A riportarci All'attenzione Il fatto Di dove Andare Che Stavamo Andando Fuori Dall'isola C'è mancato Veramente Poco C'è mancato Veramente Poco Grazie Mila Tanto Valerio Per il Follow Grazie Mille Vale Le sgoschi Le sgoschi Odiavo Allora Allora Fa pure E' uscito Dal discord Come fa pure Fa Quello No Siamo Entrati Aspetta Come Se E' Crasciato Eccolo Facu Ci stai Facu Ci siamo Mi era saltata Mi era saltato L'audio Vado Vabbè No io pensavo Ti fosse saltato Che ne so Internet La connessione Perché Però te vedevo In game Con quella Che la pago Spero Dai Che c'hai Se posso chiedere No io uso Fatto Però abito Proprio in centro Città Unico Fibra C'hai proprio Quella Gigabit Io non so in centro Città Sto però Beh sto a Roma Quindi magari Sicuramente per quello E c'ho anche un gigabit Io sto in provincia Però una cittadina Già di 55.000 abitanti Fortunatamente arrivata Fortunatamente Dai è arrivata Io sono di Roma Nicolò Sì 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 Non si sente Ma come è potibile Nessuno si sente Che io sono di Roma Come è potibile E raga io c'ho Lo champagne E qua se volete Che andiamo tutti full Allora Facu c'è sta E venga qui Aspetta Ma C'è soltanto Svudi 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 Venga svudi Cosa Beats New York Chiamo New York Perché è NY Insomma New York E' più bello Franky Grazie mille Per i follow Venuto Franky Allora La mia prima partita Del giorno Quindi Eh Non si preoccupi Non si preoccupi La io dico sempre Che la mia E' sempre La prima partita Del giorno Così sono giustificato Perennemente Capito Pure se sbaglio È la mia prima Ma come se live Da tre ore Non è potibile Non è potibile In realtà Io a Marina Abbiamo il contratto Che quando perde Che quando perde Mi dà la colpa A me Che sia Vero Vero Quando Se no La do a broni Che volesse Dopo Insomma So chi dare le colpe So chi dare Sicuramente A chi dare le colpe Non è un problema Che ho Non balli Come sul tetto Io ballo sempre Buono Non lo so E sul tetto Mi sa che mi ce fa Sempanna Salve Marina Che senso Banana Che sta di banana Passito banana Che si è successo Che ha detto Vado 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 Un airdrop Un airdrop Ok Oh bravo Marina Bravo Marina Che è fatto caldare Tutto giù Tutto giù Regà Non so se potete portare Una pozza a scudo Porto io Porto io Qua c'è un altro Ah come va Ho capito Come cazzo Ho detto ma che è successo Tutto bene Tutto bene Banà Tu che dici Eh no Per un attimo Avevo frainteso Ma come cazzo Ma come cazzo Ma come cazzo Clara ha perso No Chi ha sconfitto Clara Ehi ehi Ciao Sì Andiamo 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 Guarda Lascio Quello di Zeus Se lo volete Guarda Sono stato Più Sono state più le volte Che sono stato noccato Con quello Che le volte Che ho terrato Qualcuno Per me Può rimanere La 40 minuti Allora Presenza di nemici Io Non Non ne vedo In questo dato momento Bene così Non ci stanno Regalano Ci stanno Andiamo a cercarli Andiamo a trovare Andiamo a scovarli Let go Chi è che vuole Essere Scovato Chi è che vuole Essere Spatolato Chi vuole Farsi Spatolato Andiamo a spatolarli Andiamo a spatolarli Tutti Dal primo All'ultimo Non è affatto Non è affatto Una cattiva idea Intanto In chat Mi sa che Stai addormentati tutti Ai 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 Stai addormentare Stai ammirando la potenza Non sai giocare Hai ragione Umberto Non so Non sono capace A giocare Hai perfettamente ragione Sono d'accordo con te Ah no E intanto Sushi Ah Sushi Ma tu oltre a lavorare PC Mi sai che stai pure A mangiare qualcosa Perché Questo alert Come dire Lo dimostra Ai 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 E sta da una vera e propria Liberazione Da quel che sento Ai 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 Non stiamo concentrati Averti giocare Ah Mi fa piacere Aperto Ogni tanto Quando vedo la chat Ferma Mi spavento Dico Sono addormentati tutti Non pensavo di fare Questo effetto E maledizione L'inticchia oggi a pranzo Con lo zampone Con lo zampone Oppure il cotechi Sono qua dentro Un pranzo Natalizio Eccoli Sono andati Sono andati Dietro di Maraghi Ci sono divisi Ok Bene per noi Forse O forse no Prendo la taglia Un po' di proiettili qui solo Guarda dove è L'ho andato L'ho perso Guarda dove è Dove è Dove è Dove è Dove è Ma rovinato Ma rovinato Ma rovinato Di campurato dietro la roccia Bianco Immortale Questa Ma è solo uno Di qua si Gli altri tre In teoria Sono a sinistra Cerco di venire Dove è morto Si sta morto Morto Guarda vieni qua dietro la roccia Perché sono lì Vieni qua Qualcuno non sta rianimando di noi Ok Si tieni Tenete una banana E finisco quello a terra O io svuti Insomma Ma vediamo C'ha pure ai svuti Vola No Scegli Solo Scegli Chi non la vediamo Ah c'è gli splash Comunque Sero Arrivo Aspetta C'ho io le bende Fa Q Che sta Vieni qua No no C'ho la banana Mi faccio Sti Lo sopra di voi Raga Giusto Ti avuto Quella la Ok Bianco C'è Bravissimi Io sono andato sopra C'è stanno ancora Da qua non vedo Sì c'era un altro C'era un altro Da me Perché si ha lasciato La roba per terra Ha lasciato E se ne è un altro Si sanno i mucati Lì qua da me Come è potibile Come è potibile Ah no Ok Quindi niente Quotechino Bene bene Meglio così Meglio così Sushi Porco Due In mezzo ai occhi Me l'ha dato Aspetta aspetta Che provo aiutarti In una maniera Un po' inconsueta Se riesco No Spai giocati Non ci stanno più Qua Ci do io C'è idee Sì ma tanto Da solo Da solo Quindi All'anno L'usiano Difficile Che venga A fare Qualcuno Quello dove c'è Lo snipe E vende qua Te li lancio Ciao 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 La banana Ciao Vabbè Premere Porto dietro Tieni bene Tu bene Molto bene Stiamo qua Così non li facciamo Recuperare la schietta Perché quello Che sto aspettando C'è quello ancora lì sopra Oh cavolo c'è il cieco Mamma mia In fronte C'è uno qua vicino a me Andiamo via Sì fa lontano Aspetta aspetta Sotto 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 Guardi tu guardi tu guardi Oh dietro dietro Non ci sto capendo Bravissime Grandi Non ci ho capito niente Va bene così E scioglione Grandi Oh Io sto controllando il suolo Vieni 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 qua caro Vieni qua ci vinciamo noi caro Non ti preoccupi Ho anche delle bende Fatti le bende Fatti le bende Sì sì ma prima rianimiamolo Tanto siamo in due Facum Tanto ce l'avevo già Le bende La ringrazio comunque Tanto le prende Il buon scioglione Eccolo qui No scusa Non l'avevo visto Tieni No che Sei preoccupi Ok No no Ma ce l'ho che bende Ok Ehi cildini se ce n'avete raga qualcosa Adesso te li butto Facciamo calma Facciamo calma Ci siamo siamo pronti Ringrazio Io c'è mancato poco Mi è messa una spatola Hanno fatto gira la testa Erano tossi comunque Ce l'ho io ce l'ho Tieni Dopo questa ce l'ho 10 Ancora siamo ben forniti Checchino blu Spero qualcuno lo vuole Eh così quasi È vero Mario Ma io non ti vedo mai usare Come Il cecchino Ah colpi cecchino ce l'ho Tieni No non ti vedo mai usare il cecchino Eh perché secondo te Qual è il motivo Te lo dico subito io Ti spoilerò Non so capace No ogni tanto lo uso in realtà Ma non so capace Ciao Sara Benvenuta Ciao Luca Grazie per il follow Ciao kid No era una domanda Eeeh Vabbè Un beh Va bene pure come affermazione Se proprio Ci proviamo Proviamo a fare il potibile Poi uno dai Forza se gioca Magari piano piano migliora Non si sa quanto Magari piano piano uno migliora Vai Ole Aspetta su Tutti che Mi sa che Fa Cuse sta fa Perfetto Possiamo andare Vado alla macchina C'è la lambo Micci Ha capito La lambo dei micci Non pensavo Che si la lamborghini micci Quanta roba Tanta roba Complimenti Auguri auguri micci Comunque Sì sì Ok Mi raccomando Lavi bene la macchina E mi raccomando Prima andare alla macchina Vedete i previsi nel tempo Perché se domani Piove Insomma Meglio non buttare i soldi Capita sempre così Quando uno va alla macchina Puntualmente il giorno dopo Arriva devo la tempesta De bioggia Così E tutto niente Semplicemente Uno ha buttato soldi Controlli prima il meteo Mi raccomando Controlli prima il meteo Ciao Quanta Let's go Scur Ha già controllato E la prima cosa La prima cosa Che va controllata Bravo micci Bravo micci Inse sa mai Si 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 Ma Colpi Cecchino Colpi cecchino Le ho troppati tutti Questi prima Mi sa Fa curo E' 9-12 Qua sono Barriere Ragazzi Io ho Il massimo Per quanto riguarda I colpi Dell'assalto Se qualcuno Ha bisogno Quanta Grazie mille Comunque per i trebittini Caro Grazie mille Grazie mille Per chi la fa usare Io no Chavin 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 Alla Traga Tra 20 secondi Riparte Prendiamo Una macchina Andiamo Potrebbe essere Un problema E c'è No Grano turco Non serve a nessuno In realtà Qua sto full Ok Possiamo andare Se volete Mi ricordo Soltanto la macchina Dove sta Ci abbiamo più Regà Se riusciamo a fare Un attimino L'antenna E meglio Se riusciamo a fare Un attimino L'antenna E meglio Perché sappiamo Poi dove si chiude tutto Direi proprio Di andare Qui verso l'antenna E così che si fa Quante E proprio Così Così Non siamo A giocare un pochino Ai pubbliche Quante Abbiamo beccato Giusto Qualche team Rognoso Tipo Qualche secondo Fa Però spero Di incontrare Gente un pochino Più forte Così esce Un lesgoski Degno di nota Ciao Pietro Vediamo La scheda Vai Le scildine Riesco a portarli Quello Quello no Lo scildone Aspetta Lo scildone Shavin Ma non volevo Sprecarvelo Così Ma spregalo Deve stare là A lei Shavin Deve sempre pensare A una cosa Si faccia con lo scildone Innanzitutto Lei deve pensare Che quello Che ti manca A livello di shield Può essere Quello che ti potrebbe Salvare la vita Concedendoti Un po' Di punti vita In più Se qualcuno Pusha Quindi Le cure Non sono Almeno in questo gioco Non sono mai Sprecate Non devono mai Essere sprecate Ok Si ricordi Io sai quante volte Mi salvo Con tipo 3 di vita E probabilmente Senza lo shield Quello quanti dai shield E quel 3 di vita Sarebbe sceso a 0 E io sarei Finito in lobby Ovviamente Spatolato Spatolato Letteralmente Proprio Senza si E senza ma Vorresti mai fare Un duo Su fortnite Con Marza Forse ci potrebbe essere La possibilità Di farlo Con Marza Stay tuned Pietro Vediamo se si riesce Bisogna soltanto Organizzare Bisogna soltanto Organizzare Vediamo Vediamo Spero di si Comunque Spero di si Devo solo Dobbiamo soltanto Organizzarci Piano piano Facciamo tutto Tanto non c'è fretta Nel senso Io so qua Loro sono là Siamo tutti qua Eccoci qui Eccoci qua Intanto Buongiorno Buon pomeriggio Anche al buongiussa Come stai Giussa Come sta andando La giornata Grazie per i 3 bit Come sta andando La giornata Giussa Com'è che procede Com'è che procede Abbiamo Gente che vola davanti Aia Stefano Grazie a medaglione Era a sinistra Sì È un medaglione Con l'angolo Che volava davanti Mi sa È andato dietro Gli alberi Non so Sarà Geniale Prendere questa Ziple Boh Non lo so Però Tanto siamo Quasi vicini Alla safe zone Quindi Vuoi dire Ci siamo quasi Ci siamo letteralmente Quasi E faccio tutto Dammi del discord Guanta Se vuoi Iscriviti al discord Punto Scamativo discord E presentati Con l'idea epic Nell'opposita sezione Che si chiama presentati Vamos Benone Benone Ma grazie di che Quella è semplicemente Cortesia Caro giusto Chiama cortesia Uno Bisogna ringraziare Quelqu'è Ah beh Sì In realtà si dice pure Come stai Tutto bene Grazie No Quindi in realtà No Sto sbagliando io Prego Scusate In effetti Sì sì Ci sta Ci sta Pure io Giusta Comunque pure io Vabbè altrimenti Non mi avresti visto In live Dove ho Dove sta Dennato No Troppo tardi Aspetta no In realtà C'è un tipo Di lì guardate 26 blu Uno di quelli 26 bianco Uno di quelli Non so chi Eh quello Si muove come una Libello La 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 Attenti qua Quello che vola Attenti là E Ops Andiamo 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 Che ho Vanno Terrato Ah tu Ah ok Come è Futtibile Non so come Sì Futtibile Ci Mi ha Nella Cabeza Corri Eh aspetta La sciola La sciola La sciola Arrivano Un bagato Sotto il pavimento No No M'hanno sciolto Calma Calma Tutti qua Sono Tutti qua Fuori Safe Dietro a me Dici Tutto Non pensavo Non pensavo Non pensavo fosse qui Pensavo fossero sceso Eh beh Andata Andata via Non ritorna Proprio Assumiglia Al mio amico Ah Ok Spero Eh Hanno busciato Fuori Safe Iai 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 Spatola Vai di Spatolamento Mi hanno Spatolato Giusto Andato a finire Così Mannaggia Che brutto Che brutto Gigione C'è ancora Penso De no Però Io lo chiedo Se c'è ancora Il buon cigione Se c'è Il buon cigione Naranara Ta Tarararararararararararararararararararara Ma sa De no E mettiamo Mettiamo pure pronto Facciamo fare Un'altra partita Civione A studi E poi Regalano Vorrei Fare un pochino Di run Non so Se qualcun altro Vuole fa Se ci sta Rayocolone il buon rei vuole fare anche se mettessimo tutte skin donne dici ma secondo me la gente vorrebbe carlino c'è vera spadola ugualmente proprio il mio carlino che si mostre a donna allora amare a recolo necessario parara bellissima questa studi su di scuola no quel ballo fa considera che non lo sento per via della che ho tolto le cose della copyright mannaggia quindi molti balli non li posso sentire sto motivo sono su youtube come fanno start al canale e ci sono tantissime cose dietro comunque che magari pubblico non io per dirti già un pochettino me ne intendo ma anche questo come hai detto del copyright youtube del balletto è una tavolata però è perché poi sistemi di youtube non riconoscono se il balletto arriva da c'è la musica arriva da un balletto di forte netto piuttosto da che ne so se uno prende una canzone e la butta dentro al video quindi evitare questo l'epic ha dovuto per forza dei miei dei cose metterà l'opzione quella lisa e no per i content credono e io sono stato costretto a toglierla maledizione ti vieni con l'altro accanto con cui si è abbonato te potino michael te poti no te poti no te qua ci hanno spadolato all'improvviso ci hanno spadolato veramente all'improvviso ma ma non erano bravini se più che altro gli abbiamo fatti salire non avremmo dovuto farli salire quali dove andiamo rega dove volete non saprei le crisi ma come è possibile cosa ci fa qui crazy come è possibile grande crazy il buon crazy crazy se vuoi vedi giocavo un tesca mativo join mi raccomando presi è esso derby mancini super capocciata super colpo di testa e le sgoski anche a 6 in un ufficio come potibili come potibili che possa caffè adesso come potibili un caffettino come potibili presi come potibili come dire come diamine potibili come potibili si fatica per il fare e il pane e niente ai 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 come niente ma come potibili da me un botta terra il potibili ma ma ancora un altro è possibile crisi vabbè ai 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 siamo sulla stessa barca ai 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 in questo caso siamo sulla stessa barca chiaro più che altro nel mio caso devo come dire devo sperare di trovare di trovarla che c'è chi vada bene il discorso delle live no ma di no chi non puoi fare live se no tra noi è finita io non è possibile quanti sono arrivo 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 e si ha messo la coda perché stanno iniziando c'è non è bianco oggi soltanto abbonati vip caro michael e quindi c'è meno coda di ieri comunque ho messo la coda per un discorso almeno così gestiamo meglio la cosa tranquillamente poi dopo questa partita si apre una nuova lobby regal quindi molto scambio di go join mi raccomando ce n'era un altro da questa parte non lo vedo più eccolo allora scusi crisi allora va benissimo morti e allora come se come si suol dire stai una pacchia stai una pacchia crisi e chi e chi diamine si ma considera che devo devo modificare di la coda ho modificato la coda quindi fai un teschiamativo join venite al barilone acqua raga bari lonzio bari lonzio lonzio arrivo 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 subito arrivo subito arrivo subito come la polsa non l'ho vista dove stava la polsa mi scusi aspettiamo a marino arrivo c'è sta al cambio della giurpa un esco ski e manuela e sgossi eccoci qua ci sono ragazzi mi aspetta ciavin già sta facciando sono qua io sono solo ai ente video questo super camion tepottino come pottino a ignazio non ci ho fatto caso che se vede che stava parla troppo mannaggia è un difetto che ho e parlo troppo hanno troppo e non parlare mai più marino occhi marino occhi per fortuna c'è il cambio delle sviluppo igna così a forse era questa la o è qualcuno che sparacchia la settimana di donde d'onde da eccole è lì e lì è proprio quello la donde eccolo la bravissimo e c'è un altro mandato che sì come fai come è possibile non abbiamo sentito i passi desti bottazzi rischi ma io non riesco a come abbiamo fatto a non sentirli mistero mistero probabilmente non troveremo mai una risposta a questa domanda facciamo così buono se c'è qualche cura me la porto appresso c'è qualche cura a crazy ma come come crazy va io pensavo hai scritto ci vuole il denaro la prima frase poi dente se crazy ma come è possibile come è possibile crazy mi fa morire raga mi fa letteralmente morire crazy non si accontenta mai crazy non si accontenta mai che taglio che il femmine non accontentarti mai però ci sono cose in cui il senso bisogna essere comunque soddisfatti no ne avevano lì occhio è andato questo eccoci qui eccoci qua eh ma quello sta sparando da lontano quel fitent andiamolo a prendere c'era uno dietro di me questo one quello meno male ma sono due sono due c'è uno una sinistra sfatolato ho un altro mamma mia bot si ma sparacchiavano pure nel senso i nuovi bot ma mai avevi pippo mi fa morire pure pippo mi fa morire ma poi pippo c'è nel senso durante cioè quando ho fatto la ho giocato con lui no che eravamo in live ho avuto l'impressione che con me si tenesse perché quando stava a stream ma da solo a certe battute stavo pisciando sotto la mattina all'anno ieri mattina che era sì che eri mattina un altro ieri mattina stavo morendo a morire una messa con cina streamata non ho visto o stamattina ha stimato la mattina si ma può essere pure chi si è un boccato ma mi ricordo può essere pure questo qua il primo è one grande occhio la avete assalto raga per caso il colpio santo c'erano tantissime tieni arrivo siccoli qua gare o quello dove vuole andare dove vuole andare e c'è un motivo a questo che cosa che è successo sushi c'è un motivo a questo non ho capito niente non sono riuscito a contestualizzare la frase mi spieghi meglio non capisco certo ma sa già che basta i fai punto esclamativo join scrivo un tesclamativo join in chat dove 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 90 bianco let go let go bianco c'è ma poi lo sai qual è il discorso raga giocare le pubbliche poi quando torni vai i ranked è tipo come non lo so impazzisci perché incontri la gente tutta iso tutta e non poi gioca così come pubbliche come nelle pubbliche è assurdo c'è una differenza anche 24 bianco e se ne è andato quello che c'è sfuglio cioè ammesso che se fosse quello se ne è andato dietro concorriva saltava come cosa sono riuscire a quello che mi dava il bensinario non ha visto bene al treno restate a rega decidiamo tutti quanti dove andare diciamo tutti quanti dove andare c'è lo vogliamo dove hanno restato o andiamo a benza perfect vero proprio comini di sapere come comportarsi una volta che fai live con altre persone conosci poco la comuni non sai se come di a sì 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 quello è anche vero quello anche vero sunshine quello è vero infatti spero che prossimamente si troverà anche bene si troverà anche in generale chi partecipa che si troveranno tutti bene a partecipare alle live anche quando uno gioca no io sto in sala d'attesa immagino vero ok c'è una timidezza mi viene termine e il fatto di trovarsi a proprio agio forse consideri quello tanto grazie mille per i suoi cinque mesi con il livello all'uno e scuschi se è così grazie mille dave come stai come stai dave eccoci qui eccoci qua noi stiamo sgaiatolando da una parte all'altra della mappa in queste pubbliche molto cigliose devo dire o che ragazzi se volete anche devi porta fortnite e dai andatelo a seguire fatto la presentazione qui sopra grazie mille ancora per i cinque mesi ed evo e gli scoschi e scoschi la raga come si è un giorno chi con buongiorno buongiorno si è tutto un discorso che ora di morire uno poi si conoscete più sasci e sushi si sono chiama tra sushi sasci e stava di sasci e stavo chiamando sasci attenzione e c'è il bot qua e quindi uno magari piano piano si 28 28 24 quel gatto esigliarmi ho capito termine che vuoi dissi di sushi messi giocatore a me e termini che vuoi usate lo stesso che vorrei usare io manzo ricordamone io né te come si dice 0 non si dice 0 si dice no scherza e dice chi non aspetta di anni c'è un 32 tanto non uso a quelli qua e i sciami neve scusi stavo ragionando e fa cura mi scusi stavo ragionando e si l'ho capito al capito e pure sopra la montagna raga occhio quando non comincia a conoscere di come si dice mannaggia mannaggia come sono topato era confidenza 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 ecco timidezza confidenza quando uno piano piano la confesi c'è più confidenza quindi magari si comporta in maniera più spiata e naturale e naturale maniera più spontanea 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 maniera naturale spontanea confidenza a me non mi riusciva a venire 60 non mi riusciva però alla fine dai si pur aveva come uniti insomma tutti coloro che partecipano chiaro si si quello è vero quello è vero intanto belasgi armate belasgi bro benvenuto benvenuto ragazzi siamo uniti che qua secondo me ci fanno un bel schizzetto mi fanno uno schizzetto niente male no questi erano colpi piccoli ma scusa perché mi metti in vendita la pistola a tamburo poi c'era pura miglietta e poi colpi piccoli da me tutti e due colpi mi scusi scusi gioco media tutte e due colpi tutti e due tipo legge di colpi o invece dave te che dici come stai dave che ci racconti dave se sta gente forte se sta gente forte famo ranked a maria ehi michael io vorrei far anche di sì però lo sai quale discorso appunto bisogna essere belli quei si rank perchè non te fanno respirare michael tu sai meglio di me non si respira dedichi un lesgoschi alla mia amica giulia lesgoschi lesgo si è così giulia si è così è così che si fa eccoci qui eccoci qua famo ranked oh jack mi raccomando che qua ci sta ci sta il buon michael che è super mega incredibilmente competitivo no no queste sono pubbliche magari dalla prossima facciamo ranked mo vediamo vediamo chi entra si si vediamo chi mi dice ribanca a me fare ranked magari raggiungiamo l'elita chi lo sa magari mi devo bello concentrare incredibilmente parapa parapa ma io mi sono messo ok bello centrato c'è un botte che sparacchia e non posso mettere anche dietro di noi c'è che le cose scrive lei per favore in 18 quando su discorso che se no vedi questi guarda che succede jack scrive la chat jack scrive la chat please please perché non mi posso ferma mentre il gioco che mi spatola nome c'è qualcuno sempre che mi spatola non posso non posso switchare c'è la chat live scrivano la chat live che senti anche dietro raga che c'è la gemma lì se lo dico io poi se lo dico io c'è arrivati pure quelle dietro il buon nervi 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 ma mi è fatto morire quando avete giocato a the site mi è fatto mu e rire attualmente morire con le persone stanno sparando e di più in dentro arrivano dice come stai niente spadolato aspetta che lo sta poco mi hanno confermato mi hanno confermato ho cavolo c'è uno qua da me bianco portato a bravo arriva amico suo anzi gli amici suoi eccolo bravo bravo eccolo a terra a terra aia 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 a terra a terra quello lì che stavo con le ali prendo la scheda del fogo aveva poca vita ci sparano da tutte le parti e passi da me vado solo a porta questo clamoroso ma che sta rianimando a qualcuno questo qua ma no quello sta là quello per terra terra fatto svudi arrivo l'hai buttato giù svudi c'è uno da me bravissimo svudi let's go bravo svudi nice nice e scada presa vai bravo shawin faccio pure io vai c'ho due sceltine da darvi c'ho medikit in giro facu tanto qua c'è tutta la roba tua insomma faccia 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 come meglio crede caro faccio qui devo cambiare stolo è dato grazie mille manu abbonamento 4 mesi lui sono passato giusto per sabare buona sera dove vai che fare bello oggi manu do vai grazie mille ancora verrà il supporto tutto a posto avendo posto nervi siamo qua c'è la un pochetto ma vorrei fare anche dei tra pochino per salire che so diamante 3 mannaggia so diamante 3 ora facciamo scendone a casa lì un pochetto tu mi racconti nervi nervi ho visto che ti porti un sacco di roba dico bene in streaming le porta gli horror se non mi sbaglio porta gli horror e non solo i horror credo o solo i horror lei vuole avere un sacco paura e vuole cagarsi addosso cagarsi sotto e male come idea cosa questo che sparacchiava scusate in vita come stai in vita non ho iniziato proprio in questa sito non le rank vorrei prima arrivare al real su marino spie e lei non ha scelto comunque è lo so ma non ne ho manco trovato lasciato uno scelto le due scendini per te che ho ho trovato mi compro a sto punto faccio prima ma c'è un ragione poi era lasciato vedere quello che si è giocato ma guardate ora facciamo come forte né poi esco che devo lavorare a pure tu pure tu oggi lavoro ci sto è la vita che tu capo la mano mannaggia miseria che grazie mille ancora per il supporto si è reso conto ma due salto hai ragione perché questo qui io lo considero come mi traietta ma infatti adesso dobbiamo fare un cinque però sai che c'è di assalto mi prendo questo qua che mi piace tanto un po grazie per la colline si tutto c'è una messa qua è una vera morte pensavo fosse uno che c'è stava cercate di aggirato sì 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 ma aveva un attimo pensato fosse qualcuno di quelli che voleva riprendere la scheda ho fatto un po di volti e intanto grazie mille a va uguali per le due rose grazie mille uguali alla rega e discorso che questo pompa qui a me non piace preferisco andare veramente con due assalti piuttosto che prendere questo qua non mi piace proprio mi piace quel pompa brutto lì non mi piace proprio un po di tutto tocca portavano uno contro uno qualche volta più che altro nervi più che altro qualche volta vorrei portare vorrei strimare la sera portare un po dei vari di quindi quando si organizzerà qualcosa con dei site eccetera già c'è che me l'ha detto che volevano riorganizzare qualcosa con dei site gli ho detto di dirmo quando è il caso organizzo dietro di noi dietro di noi si gioca insieme a qualcosa di diverso e che vorrei portare anche qualcosa diverso io gioco un pochino tutto c'è qualcuno qua sul tetto c'è il suo monte detto con la terra cascato solo traccato quell'altro che si è lasciato che calata è sotto altro team c'è no ecco 8 8 che sono in due eccolo da vedo me da 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 me così dove l'altro e l'altro tutti quanti giù tutti i lobby tutti lo abbio detto tutto il lobby ha detto nell'altro è nato quello scappa il vostro amico dove è andato dove è andato il vostro amico prende il medaglione devo cercarli devo trovarlo Dov'è? E' lì giù, sto per arrivare Lei, il lobby deve tornare Non so se sei infilato nel cespuglio Cespuglio, non cespuglio? Sì, non cespuglio, mamma mia Grazie per la call, grazie per la call, grazie per la call Vieni qua, vieni qua Tu e i tuoi amici, i lobby, ho detto i lobby Escoschi, sì, è così Volevi salvarli, ma il lobby Tu devi andare a trovarli Escoschi, sì, è così Occhio dalla montagna, dalla montagna La montagna, la montagna, la montagna Aia, aia, aia Guarda, se vuoi essere sceso Aia, pure ragazzi Vieni con me, vieni con me Bella, e ste clip Mi piaciute, questa sera una bella clip Che minutaggio è? Un'ora e 46 Un'ora e 46 E passi in America Vado, vado, vado Arrivo Passi pure da me Da dove? Sono nella parte dietro della casa Eeeh, li ho sentiti dietro l'albero vicino a me Eccoli qua, davanti Esco, 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 crackato Bravo Watch it Ehi, terra Nice Ehi, sopra il tetto E' sceso Aterrato uno Aterrato uno Aiuto, aiuto, aiuto 116 è quello E' c'è uno in piedi qua Eccolo, è quello là, quello là Let's go Però visto Mamma mia Mamma mia C'è Shavin con mezzo punto vita Dal momento Ho due kit, ho due kit Shavin, tieni L'ultimo, l'ultimo qua Va che è qua, è qua, è qua E' sopra il tetto, sopra il tetto Raga, sopra il tetto L'ho visto, l'ho visto L'ho visto Let's go Sai, è così che si fa Let's go Ah, ah Marinoski Vedi che c'è un nuovo sponsor, eh Chi è che è un nuovo sponsor Chi è che ha parlato così Eh, ma che è un altro alert C'è vivo Perché che è successo Hai steso l'abbonamento da Prime Regalo a livello 1 Grazie mille, Michael Ma c'è, io avevo questa cosa Che non la sapevo C'è un nuovo sponsor Ma quando l'ho messo sto alert Ma quando l'ho messo sto alert Ma che è A Michael Mi ricordavo di aver messo Marinoski C'è un nuovo sponsor Bellissimo Grazie mille, Michael Comunque per aver Cioè, trasformato il tuo Prime Regalo A un abbonamento di livello 1 E bella si intanto Assalti in bucchia Buonasera, buonasera caro Ciao ad Anna E super disponibile The Seatansi Mova da seguirti su Oh, e ricambio volentieri Poi Aspetta che Do star cellulare C'è un sottocarica E faccio da PC Da PC Aspetta da PC Faccio subito Vai, lascio il posticino E mi riprenuto per dopo Va benissimo Oh, grazie Grazie per la salvata, regà E mi hai diservato Literalmente Allora, però Una cosa che devo fare Prima di vedi Instagram Se no me scordo Segnare un'ora e 45 Regà Per la clipettina L'ho spatolato Mi e li ho buttati tutti giù Io, ma lo sapete, regà Perché uno è cascato Che sotto il bonte Hai fatto un casino Mamma mia Per carità Niente di che Soltanto per il content Che ci può aiutare A farci conoscere Un'ora e 45 Oggi Let's go Allora Dicevamo Instagram aperto da PC Datemi un secondo Regà Cerco De fa tutto Ti chiami sempre Sono nervi Su Twitch Cioè su E ho detto Che ho detto Sono nervi Ma in occhi Ah, l'ho detto bene Si pronuncia così? Io voglio che le pronuncia Regà Sono un pochino Comunque Instagram da PC Regà Fa proprio Le bizze Da tutte le parti Ecco te qua Ecco te qua Ah no Che fotoprofilo Ah no Ah no Che fotoprofilo No No fa rite però Ed ho ricambiato Ho fatto rite Lì per lì Non me l'aspettavo E ti ho ricambiato Il follo adesso Non so se ti è arrivato Fammi sapere Perché qua L'app da PC Un po' Un po' Buggatelle Un pochino Buggatelle Poi dopo controllo Meglio Comunque Mamma mia Che taglio Che risate Marino Io ti saluto Grazie mille Grazie a te Spero che ti sia divertito Sghi Fammi sapere poi Se c'è qualche consiglio Come al solito E fammi sapere Nel senso Fammi sapere pure Va bene Ciao ragazzi Ciao Ciao Carissimo Riderci caro Riderci Era nervi tesi Ok Ma prima qua Non mi adebiano Certissimo Funzione Pagare la sub No in teoria Li dovrebbe addebitare Dopo Dopo un pochino Quando tu fai Lavoramento Devi lavorare Il pagamento E poi dopo Ti arriva Insomma Ti arriva Il A distanza Di Di qualche ora Non sono una persona Giusta per dirtelo In quanto io Quando faccio gli abbonamenti Utilizzo le gift card Di Che prendo su Amazon Di Twitch Cioè faccio Tipo l'acquisto Su Amazon Delle gift card E Perché faccio questo Per non avere La carta collegata Su troppe piattaforme Tanto è comodissimo Va bene uguale Infatti vi consiglio Le gift card Se dovete fare Tipo Vi arriva subito Via mail Non dovete collegare carte Eccetera Da Twitch Eccetera Eccetera E state più al sicuro Allora Ecco Jack Intanto No invito il gruppo Ti convito io Jack Aspetta Accetta La richiesta E fallo di nuovo Jack fallo di nuovo Arrivato Perfetto Allora funziona Bene Ma comunque Complimenti il tuo lavoro Ma ieri mi sono sbagliato Moby Ieri mi sono sbagliato Invece di scrivere Quando ho scritto Quando Perché ero appena Tornato da correre Mi sono messo a scrivere Per sbrigarmi Sai Se no L'orario diventava troppo tardi Era un casino Intanto c'è Michela Michela Buon pomeriggio Come hai fatto a mettere i cuori Quando spari Semplicemente Michela Basta che vai Nelle impostazioni di Fortnite Una volta che vai Nelle impostazioni di Fortnite Ci sta proprio Un'interfaccia Quella lì Che ti dà la possibilità Di Devo soltanto trovarla Aspetta Era Visualizza effetti sonori Metti sì Che è quella lì Però aspetta Era per i danni Dove stava Arriva Ho un dubbio Ho un dubbio Eccolo Allora praticamente Quando tu metti Cifra danni Metti lista No Per avere ogni singolo danno Sotto c'è Feedback danni reticolo Nei feedback danni reticolo Nella Quarta categoria Delle impostazioni Devi mettere colpi icone Così ti esce Oltre che il Quanto gli toglie All'avversario Ti esce anche l'icona Che può essere Quando rompi lo scudo O il cuore Quando fai danni vita Eccetera eccetera Amica Spero di esserti stato D'aiuto comunque Allora Tanto Michael sta qua Poi Eccolo qui Jack Vi devo spostare In chat vocal Datemi il secondo Che famo tutto Ah ma Svutista ancora qua Allora Michael Ciao Michael Bella Bella Jack A te che figura De mica Se posso essere d'aiuto E se so una cosa Dico velitieri Allora Ce ne manca uno Ricordo raga Che oggi sto giocando Con coloro che sono abbonati Sono VIP al canale Ieri abbiamo fatto Il followers day Ho giocato con tutti Indistintamente Allora Ah beh Tu join Che sei un creator Nervi Quindi vai I creator Sono i senti Da Sì sì Comunque Fai una cosa Nervi Dimenti un nickname E se vuoi Entra a far parte Il discord Così possiamo Parliamo direttamente Sul mio discord Se per te non è Che è successo Jack di Anna Magna Leggirò Tu ho mandato Su presentati Ma perché E perché Non me lo scrivi in chat Te poti No Te poti No Ti mi hai scritto Ti ho mangiato Poi sulle cimali Ti ho risposto prima Jack Ti dicevo Io aggiungo Soltanto le persone Che fanno parte Della community Che seguono le live E poi le aggiungo Dopo chi si sono presentate Loro Perché altrimenti Ognuno presenterebbe I propri amici Per me Si farebbe più complicata La situazione Tutto qua Tutto qua Allora dicevamo Per quanto riguarda Nervi Punto esclamativo Discord Eccoci qua Appena ti unisci Nervi Iscrivimi Qualcosa in presentati Che ti do il ruolo Pure streamer Così puoi imbeccare Direttamente nel canale vocale Che è questo qua Dove stiamo E fammi sapere Il tuo ID Discord Così ti aggiungo Semplicemente Abbastanza easy Beh quindi dobbiamo fare anche E muovitiamo un attimo Michael Tu come sei messo Con le ranked Aspetta a parte Che ci sei messo No no Dico te Dico Il buon jack Argento Mi sa che è meglio De no E me sa che è meglio Allora Ecco qui Se non vuoi De ranca Caro Io zero build Ti zero build Come sei messo? Zero build Ho mai giocato Il build Sono quasi In cento Nervi Entra pure in vocale Così mi dici Il tuo nickname E ti aggiungo subito Ti ho dato i ruoli Per entrare direttamente In sala live Quando vuoi In bocca pure Cuccioloni Oh eccolo qua Aspetta che ti Vado a mettere Un attimo che non vi sento Aspettate perché Giustamente ogni volta Vai 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 Ingresso Ok Ok Ti sentiamo forte e chiaro Pronti? Sì sì Ti sentiamo forte e chiaro Dimmi pure l'idea Come state? Tutto bene Subito Subito No noi portiamo subito La bomba Che qua purtroppo Su fortemente Appena ci stanno i tempi morti Che te firmi La gente Ma quando gioca? Hai ragione Hai ragione Hai ragione Hai ragionissimo Aspetta che Aspetta perché Io adesso devo vedere Anche se No ma lo sai che c'è Aggiornamento Non so da quanto non c'è Giochi hanno messo L'altro ieri Eh merda Aspetta Vabbè se vuoi Poi rimaneva fatta una chiacchiera Quello va benissimo Non lo saperevo No ma il game È un game Me lo faccio Vabbè in caso partite voi Poi in caso dopo Mi In caso join Mi sa che erano Una decina di De giga può essere Contro 10 giga 10 giga 7? No forse 7 Aspetta 7 michael Da playstation 5 Non so Eh ok PC Ok Eh beh insomma Perché potrei giocare in caso La PS5 Ma poi non sentire l'audio Quindi sarebbe un po' Fallo dove Per te più comodo Che te frega No no Fallo da PC Perché non senti Non c'è il mixer? Eh no Non ho il mixer Perché la PS5 Ancora non l'è collegata Ah ok Però forse Sai che forse è aggiornato Aspetta Ma vedi Ma forse è aggiornato In background Quando c'avevi acceso È probabile È probabile Gli eschi Aspetta Allora blocco la ricerca Le blocco Le blocco Te lo dico subito Connessione in corso Mi sa che Mi sa che ci siamo Ok Ma l'anno scorso Quanto eravate in build I ranked Eh io In elite Mi sono fermato Ma lo chiamo in ranked? No no Facciamoci L'anteproccopante Non ti metto subito Non ti metto subito Pressioni Cil 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 Sia tranquillo Non si preoccupi Facciamo Ah no Mi sa che Sì sì Ho tutto aggiornato Arrivo Ah posso posso E dimmi come ti chiami Che ti aggiungo instant Eh Aspetta che manco Mi ricordo Vai Appena ci sei Fatti capire Ma sono l'unico Che gioca da Nintendo Mi sa di sì Vitti FPS Buona Ai 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 Vabbè E' importante che ti diverti C'è che ti diverti Tipo 60 Allora Vai Io mi dovrei chiamare Sì Ah va bene Nervi Ah no no Nervi saldi Come No è quella Nervi saldi Nervi saldi Tutto attaccato Dovebbe essere Ok fatto Sei arrivata Yes Perfect Era proprio quello Era proprio quello Nickname Tutti bene Allora E riesce a fare I richiesti uniti al gruppo Se no aspetta Te sto cercando Ecco te Ecco te Trovato Ci sono Vai bam Sì 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 Ok che è uscito al discord Eeeh Iscito al discord Pensa jack E' potibile Ma qua gente Intra e esce Qua Michael Si capisce più niente Ah forse è crashato Eccolo qua Non lo rinserisco Ah jack Ce stai Mi raccomando C'è la scena 3 contro 4 Che però Se no Tutto diventa in salita Qua Che sei? Ma qualcuno Ha chiesto di cambiare le skin Prima Aspetta Ma lo cambiamo Gli mettiamo tipo No Zeus Mi sembra un po' troppo Gli metto Ah ma gli mettiamo statizia qua Vediamo se c'è qualche stile No non c'è Oppure metto No no Vabbè Il volati Lo lo mettiamo Tra qualche live Dai Oh Nervi Invece te Se te posso Fa sta domanda Anche tu Hai avuto la sfortuna Di vedere i miei Mi short Nei per te Appicato su TikTok Sì 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 Ammi di volte Ai 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 Qual periodo Credo di aver fatto Un po' dei macelli Tutti Chi è questo Tutti Miliardi di volte Mi scassavo sui video Cioè mi scassa Anche tuttora Anche tuttora Mi spunta Pure il Dico anche tuttora Mi Mi spunta Io io lo sai che purtroppo tic toc mi ha un po spatolato come uso sempre la fortuna che io sono uno di quelli che crede molto nella diversificazione dei contenuti no ho avuto la fortuna di siccome mette short ovunque faccio contenuti ovunque di spostarmi un pochino le persone anche su instagram e youtube maniera tale che anche se il contraccolpo è stato più lieve nel senso che sì i numeri li facciamo sempre un pochino più bassi però magari youtube instagram aiutano meno male grazie al cielo credo ci costa io sai quanto 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 ho cambiato in questi due anni format non è neanche idea da dalle parodie da canzoni a gaming a provano a ridere quello che penso che tu fai i contenuti vanno bene sì poi c'è un momento dove va un po male importante con un po riesplode quindi basta letteralmente continuare poi c'è la costanza la costanza la costanza ma anche una cosa che influisce molto su tik tok anche in questi giorni e quando tu pubblichi un video se tu pubblichi un video quando stai in live fa molte più visuale rispetto a un video che fai quando non stai live è ma lo sai quale per il problema mio è che le nuove bussa più le live tik tok a me e molti altri creator da un mese a questa parte e quindi il concetto che dici te è sicuro il callo dei fortnite chiaro si calcola che si sia oltre quello calcola che le live di tik tok bustano i tik tok di un 20 mila visualità almeno al me non parlo parlo per me io credo sempre le tre di pomeriggio quando vado in live la sera anche su tik tok bustano quei 20 mila che magari poi tu lo fanno andare né per te o comunque dipende ma solamente io connesso in corso odia mine si è sceso c'è stasera no no sono ancora in connessione in corso quindi può essere che ora per se che si sbagga aspetta e sì in caso che non si sbagga tornava lobby intanto me nascondo un attimo che devo giustamente la chat che sto rimane troppo indietro scusate un attimo rega che ho visto che è stata scrive rotta dai collo prima guardavo scriveva più nessuno certo che succede vi manca uno e no in realtà siamo quattro shavin però mettete in coda io la mia pasticcina che gioca da nintendo la mio due sushi sei mamma di quattro di quattro ho letto gattoni leoni addirittura mario comunque quel gioco dovrebbe uscire a maggio e ho visto dei game si può risposta arrivata risposta di e crisi c'è ancora eccolo la ma io devo scoperti prima mannaggia tiktok e lo so ma è così sono io la gattara di simson ma tengo il marito a fare il topastro no no siamo in squad siamo in squadra non possiamo fare i topastri possiamo fare i topastri eccomi regala sono tornato sono tornato eh si l'avevi detto qualche giorno fa sunshine e io e for c'è fortunatamente nel senso per il momento posso dedicarmi anime corpo alle live ma insomma quando troverò anch'io la mia dolce metà di nuovo dovrò trovare c'è dovrà come dire accettare il discorso delle live non è mai gel comunque dicevamo dicevamo e a me mi busta non ventimila ma un 34 mila sono d'accordo con tenervi miliare ca in questo momento nel senso per esempio tiktok ma maluccio magari si ferma sui diecimila la live trova arriva a 15 mila quello succede cinque tre quattromila cinque mila e poi comunque un modo per dire alla piattaforma ei sono qui sono vivo considerami eccomi quindi uno devo utilizzare tutte le erano tito che è quello se a tiktok c'è un algoritmo tutto sballato non si capisce non si capisce periodico e periodico magari un mese cambiano le cose incominci come dice nervi a risalire le classifiche nel senso i contenuti iniziano andare bene di considerare il gioco perché comunque io tra virgolette sono esploso quando ho cominciato di nuovo a rigiocare fortinet con la e con fortinetto oggi che è successo che sta abitando il dicevo comunque io quando io faccio in questo periodo delle live su brawl sul profilo del team e quando io faccio le live di brawl faccio sempre solo facendo il video perché ho fatto alcune prove se faccio il video quando è live che lo pubblico mentre sto in live faccio 300 400 spectre se non faccio il video a 50 comunque la gente che ci sta perché la gente che entra dei video brevi ok ok giusto un'altra cosa che ho notato perché giocando a fornit appena appena è che cambi gioco che che cambi gioco che fai una danda e di donna dai a torni sport night dici spec non ne fai di più capire bene io mi baso più che sul discorso del cosa mi vado e gioca nel senso che io brollo l'ho portato una volta l'avrei riportato anche più volte il problema è che c'ho l'iphone con la batteria lo scritto assistenza io quando finisco le live in genere esco o in genere che ne so dove avere il cellulare carico se porto brawl più di un'ora due ore rega e sto tipo 5 per cento poi che faccio non esco rimanga caldo non ho colleghi col cavo al pc sì sì però non si ricarica nel frattempo non si ricarica di cattura bravissima ho comprato delle cose devo soltanto però c'è mio fratello che dice no non devo prendere l'iphone nuovo tanto lo devo cambiare io poi ti passo il mio e io ho detto che quando cambi non lo so aiuti potibili e capace e quando cambi bros arse non è più il periodo favorevole per portarlo perché vai nervi non so tutti che avviso sei ma i trend ha visto un pochino vanno seguiti no quando a voglia che sennò è come se come se un attaccante gli fai l'assist a porta vuota e tira la palla tipo in curva e quindi poi però sai sempre dipende chi chi vuole seguire cioè io non mi alco non me la collerei mai di streamare tipo 8 ore di bros stars solo perché va di moda io mi accoglio di streamare quello che un po mi può piacere cioè se un gioco esatto se un gioco non mi piace tipo se dovessi andare in voga ti faccio un esempio clash royale il concept di clash royale non è che mi stuzzica più di tanto nel senso non mi attira quindi non lo porterei mai ok e invece bros stars il fatto è che tipo una sorta di come si chiamano quei giochi tipo roguelike se roguelike dall'alto tu sparacchi non è un roguelike però mi da a livello dei figli a livello generale mi sembra cioè tu sparacchi capito è sfizioso poi ci sono tanti personaggi comunque come livello di concept mi piace parli con uno che porta letteralmente tutto quello che gli passa per la testa quindi quindi cioè io sono forse l'anti l'anti viralità ci porto oro anche sconosciuti porto tutto quello che è tutto quello che può essere un cazzo infatti secondo me è quella la cosa bella cioè uno si accolla di portare bros stars perché anche magari ci io per carità in privato ci giochicchio non 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 sto dicendo questo però può cioè portare otto ore di live di di bros stars solo perché va di moda per me la follia diventa tedioso poi non è più un piacere alla lunga si si è vero è vero il problema che fornit più basso il tempo e più basso di moda ma e lo sai qual è ci sono dei periodi in cui a me a fortnet non andava di gioca e puntualmente cambiavo content e purtroppo è la community di fortnet è legata a fortnet non tanto al creator in generale tipo io per periodi ho portato pure overwatch eccetera però se tratta poi l'impostazione che te dai al progetto se fai come nervi che punti tutto sulla varietà sul fatto di essere tu il protagonista e non un gioco che porti è quella è proprio come dire è una benedizione perché a quel punto non sei più vincolato a non nervi corre da solo addosso al muro sembra che ha crasciato no è crasciato non è crasciato no rega come potibile era pure un bel discorso quello che stavamo facendo rega ricordatevi oggi che lei e mamma che si vorrei oggi da oggi se non sei più sunshine non sei più e sushi diventata gatti come ha scritto lui la sito show in mamma gatta mamma gatta a posto mamma gatta eccola lì eccola la billy grazie mille di follow ciao ciao scaffo grazie mille di follow anche a te ciao fire ciao a tutti i ragazzi ben trovati aspetta ma mi sa che mi sei bugato tiktok a me tutto ciò facciami dire marino lasciato il pc dai no come che componenti pure io una 2060 super con i7 non mi ricordo quale ma c'è un problema che ormai mi metta naia da tipo un anno da quando ho comprato il pc che ormai diventa un meme nel mio canale quindi non è molto eh sì sì io ogni tanto prende crash poi devo capire qual è il problema perché di solito se crashi con la schermata blu dovrebbe essere un problema di processore e no non è schermata blu ma realtà si frizza proprio il computer cioè si frizza il computer oppure da schermata nera uno dei due ciao talchi allora schermo video è probabile in realtà che sia oggi oggi sto giocando con gli abbonati e che si per il canale il case è proprio una merda c'era fatto il fuori di quello che costa tipo 250 ieri non c'è stavi più ma nato ai 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 a una merda infatti devo farlo controllare però come continuano nervi stava parlando anche che presto è ogni 7 però non mi ricordo come stai come stai bene 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 come sono mutato da loro che stanno anche erate il problema del pc fine ancora stai mario mi sa che oggi non se beccamo crisi mannaggia che mai se dà una sostituzione presente quando uno sostituisce asce giocatori entra l'altro tu finisce lavora io inizio ha già crisi oggi non sentirò probabilmente non sembrino come potibile no no lo so stavo parla con la chat per non disturbare tenervi che stai parlando è cresciuto no spero che riuscirà a risolvere sto problema il pc che mamma mia quando uno stream casino si problemi del pc non lo dico perché sennò si presentano tutte le persone talchi non dico mai quando è il giorno che gioco con tutti perché la coda diventerebbe non dico infinita ma troppo numerosa e quindi semplicemente chi vuole giocare basta seguire le live e poi trovarsi essere un pochino fortunato a trovarsi durante la live in cui gioco con tutta la community non riesco a capire non riesco a capire crisi e il tempo pazzo il tempo pazzo iiii 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 ens giappo grazie mille per i follow benvenuti o intanto mobbi io io si faccia il 5 trasmissioni conseguute raggiunte per lui ma più grazie mille mobbi eccolo qui eccolo qua mobbi maraissima e te ho seguito e scritto a e no ma che mi dite sempre di guardare c'è che prima mi stava fa spadolamo tu mi dici che ho scritto voglio dove vado a dove diamine e dove diamine diamine il messaggio a eccolo com'è potibile tornerà penso che si tornerà magari sarebbe pure jack è andato siamo noi due ma come jack è andato jack secondo me mi sa che stava a venire spatolato si e che fa sono rimasto solo io solo io con il buon michael caro brony devo fare uno starnuto gigante speriamo che arriva che è successo ma c'è gente da te è mica poca arrivo non mazza di due a niente ma ti sono due a terra no ma già non è stato ma mi sa che facciamo primo acquittà no 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 ma hanno visto a distanza pazzi scatenati con le bombe hanno fatto l'assalto ucraino un attimo mi scopio il collo me ne comando su tik tok purtroppo non ci spinge più la piattaforma venite guardare navi da twitch se volete prova a mettere i short quelli che pubblichi dato che comunque tutti li te li prepari pubblica di appena starti la live li pubblichi e fidati che così entra un sacco di gente in questo secondo potrei droppare tantissime cose molto carine ma non lo faccio perché potrebbe essere ringrazio no no potrebbe essere un problema in generale quindi non dico tutto quello che penso in questo momento sono gravi le cose di nuovo schermo nero non ho fin frizzato cioè mi è mi è crashato ho riavviato video neri crash ha avuto lo stesso problema la scheda video quando si frizza proprio tutto coda aperta si troverà il video oppure la ram potresti provare a dire passare ci si vede molto meglio si voglia di mettere la ram si conterà mai o 16 giga sono due banchi da 8 si ma calcola che l'ho portata a far riparare quel problema mi hanno aperto la scheda video mi hanno messo la pasta tutto perfetto ma è proprio l'entrata della scheda video che quando la muovi tipo anche si vede si frizza e allora potresti o cambi il robo il pci oppure cambiato scelabili anche perché nel 60 ormai è lo solo lo so lo so lo so così quello preso per iniziare tipo quando ma un tipo sei mesi fa quindi ma neanche tanto neanche tanto lontano è ben solo della realtà la fossi presa anche sta contenito no 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 il pc è allora il pc è nuovo l'ho preso usato è letteralmente nuovo l'unico problema secondo me è proprio sto case di merda infatti se non c'è proprio da cambiare il case e cambio il case secondo me mille però il case non influisce molto né sulle prestazioni né sul nono ma il case io parlo perché io la scheda video a sto punto attaccherei direttamente senza pci e questi ho capito tu sei la data c'è c'è una roba c'è stato nuovo c'è stato nuovo c'è stato nuovo c'è stato nuovo c'è stato di nuovo c'è stato di nuovo c'è di nuovo che ho rianimato che ho rinamato me stanno spadola ai 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 devo scappare no me sai che so botta però non è non ne so sicurissimo scusate se vi ho interiuto ragazzi ma non pensavo c'è io la la prolunga è o tipo la prolunga io ho capito ho capito adesso adesso del compreso e quindi secondo me potrebbe essere anche quello il problema sicuramente allora devo proprio cambiare il pc ai si ha rimasti due è cresciata che l'altro ma l'altro secondo me non ha fatto i compiti jack 12 12 che sentivo tipo che sa in facqua è stato controllato magari il regista elettronico che adesso due saluto a un saluto a jack ovviamente è andata finico se andava finicoli ma vincere la vincita a mani bassi ci penso che si abbiamo riportato pure il buon michael prima mamma mia che li faccia quelli peccato che c'è un sacco venute io ho preso tutto cosa che faccio totalmente per il male ma io faccio così gioco gioco la playstation non sento l'audio sti cazzi dice almeno non crash dalla play è vero c'era le cinque sino è sia la play 5 ma il microfono di merda ti faccio dieci bombolazzi no ti faccio dieci bombe va bene va bene facciamo che si facciamo così io qua la mia postazione in pratica ci ho fatto tutti i cavi infatti come si deve tutto un cable management ok si è in pratica la mia fortuna è che c'è le leggi pro che c'è nel microfono e quindi non devo ogni volta a staccare riattaccare il micro quella è una bella fortuna però quando io quando io c'è devo fare un torneo da play o ste robe qua giocavo da play mi serviva il microfono che con microfono del controllo è veramente non si capisce nulla si dovevo ogni volta a fare un macello con i cavi devo staccare i cavi attaccare la play un casino hdmi dalla tv al monitor se io ho risolto tutto colgo xlr quello dove prenderlo prima xlr colomini piccoletto ma risolto tutto sto un baradam di attacca stacca riattaccare e stacca unicolo quello molto utile poi sono di quelli che vede tutorial in tutto e per tutto quindi a poco a poco insomma ho visto bene cosa prendere cosa non prendere e io mi sa che mattina prendo la scheda audio devo anche cambiare il microfono perché usb e penso sì se c'è attacco xlr sì sì se non vuoi spendere tanto ti consiglio quello che ho io attualmente che si chiama il road pod mic che abbastanza buono so che un mondo popolato di sure eccetera che costicchiano questo qui costa tipo 105 euro 120 però la resa è molto buona non ci credo ne hanno pushato quelli dell'isola spatolato uno morto hanno spaccato l'albero che bastardi non lo so uno l'ho ucciso e giù dovrebbe essere uno perché quello è un bot non bugiano ne un Quello è vero, non so Però se gli sparacchio Si accorge di me Quindi quello che farò adesso è questo, guarda Mi metto qui Poi Tu che c'hai qualcosa che mi può essere utile, che non so, movement No, zero, niente Avevo il medaglione prima e me l'hanno rubato Questo ha rebuttato fuori Medaglione è tuo? No Sulla isola Potrevi riftare, Maria Eh, ma pensavo ci fosse il medaglione qua No Oh mio Dio, attento, attento, attento Eh, ce l'hai circondato Ma i bunker che hanno fatto erano elevati, eh? No, 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 ci stanno, ci stanno Prendi rift a sinistra Eh, lo so, non c'ho la stamina Allora, ricarico e corro Wow, let's go, let's go, ecco me qua Ok, ciao Come segui, no? Seguo una rotta di collo Allora, devo ragionare Dove li posso intrappolare? Vediamo Allora, lì c'è un bunk Una macchina Mi serve una macchina Allora, là sotto c'è una macchina Vedi quella lì tutta azzurrina? Sì Quella è la mia di fuga, ragazzi Quella è la mia di fuga Però non devo dargli Devo farglielo capire Ora lo capiranno Mari, sei tu contro una trio e un duo Ah, e là devo fargli spadola tra di loro Oh, che bello Che è quello? Mi sa che t'hanno inseguito Forse te lo fai, eh? Perché quello non lo vedo molto sveglio Ecco Era da solo? Era un bot Era solo Allora sei contro una squad No No, peggio di prima L'ha rebuttato No, peggio di prima Ma manco c'è una scheda tua Questo è il problema Oh, qua c'è content, nervi No, mi devo concentrare Come se non c'è fosse un dopo domani Dai Dai, se fai un altro kill Arriviamo a 20 almeno Eh, c'è devo prima No, cavolo C'erano i cildini Potevo andare full Eh, vabbè, tanto Come va a va, regà Come va a va Che content, vedi? Eh, muo Quattro contro uno Doveva essere OP Certo, dove stai prendendo la scheda tua No, va troppo fuori No, toglie cinque Evita Non ce la fai Ai, ai, ai Che sfortuna Ma, e noi Questi saranno quelli Che t'hanno spatolato la prima volta Sì, sì Ma mi hanno spatolato quattro volte Cioè, tutte le volte che sono morte È sempre loro Vedi tu Eh, vabbè Eh, vabbè Sì, ciaone Sotto sotto controllo Non più o meno Non so, oddio Non me lo so Però No, dai Non si è aperto la porta, regà Fall'entrava Fall'entrava Boom, boom E muore Eccoci Ah, ti riuscì Ma, ti riuscì Ma, ti riuscì La tempesta No, regà Non mi si apriva la porta Prima Non so perché Non mi dava Chi l'aveva Quello che Ma, ti riuscì Era lui Era lui No, adesso Va bene Va bene Va bene Va bene Vabbè Ci sta Mi amico Simo Non sono Dotto Amico Simo Io Avevo 18 Di tutto Sto Scarsone Alla E vediamo Se facciamo Un buco A qualcun Altro Andiamo Ci siamo Finalmente Ci siamo Andrà Vinci E fai Richestano Il gruppo Nervi Così Ti ripetiamo Dintro Fatto Ecco Nessuno La Chate Posso Inboccare Se vuole Però Solo Sanno Nessuno Ci stanno Sfudi Stai Qua Te Se non C'è Sta Shavin Essere Promotato Shavin 10 Minuiti Attorno Perfetto E vai Sfudi In bocca In bocca E mi ero Proprio Scordato Che c'è Stavi A Sfudi Stavo Visto Per la Riserva E Pronto Era Pronto Si potrebbe Prova Una Anche Eh Ma Ma c'è sta nervi Che stavo Lecilla Vole Chiacchieravo No 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 Posso Fare Qualsiasi Cosa No Vogliamo Far Anche Da playstation Ne so Va bene Perché classifica Non mi ha fatto Mette Sì Un attimo Io sono Però Mi sa Plastica 3 Sono Punto Interrogativo Come Maio Non si sa La prima partita Che faccio Anche Prima Eh sì Perché Zero Build Non sto Giocando Più Come prima La stagione 2 Del capitolo 4 Ok Ho Veramente Tantissimo Di Zero Ma C'è Credo Ma era Veramente Perché era Comunque Pure la novità No Tutti Provavano Dice Tigre Della Tizia Dall'altra Parte Erano Comunque Sia Diventati Iconici Per Alcuni Posti Questi Che hanno Messo Adesso Sì Per carità Il discorso Degli dèi Eccetera Però La vita Un pochino Come una Forzatura Atta Per forza Rimescolare Le carte In tavola Nel senso Che Chiaramente Dovevano Mettere Delle novità Secondo me Rispetto Alle altre Infatti Dura Meno Fatti Dura Meno Secondo me Era Più Un test Che E Meno 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 Certo Se ne Andava Cioè Se ne Andava Se ne Andava Un altro Po Se ne Andavano Tutti Se ne Andavano Tutti Via Via Tutti Quanti Via Tutti Quanti Ma io Sto Gioando Veramente Poco Cioè Di Maggiormente Io Sì Stream Dalle nove Orario Sireale Eccolo Là Ho provato Anche a Streamare Di pomeriggio Però Ho detto Senti Sai che C'è Di pomeriggio Non stream Creo Contenuti Quindi Per Tiktok Eccetera Eccetera E poi La sera Stream Ci sta Buona Tattica Anche Perché Magari Tu Utilizzi La streaming Correggimi Se sbaglio Pure Per Una sorta Di Rilassarti Cioè Staccare Un po Dalla Vita Reale Per così dire Sì Io quando entro in live Letteralmente Vabbè che Lasciano stare gli spaventi E L'urlare 24 ore su 24 Però Sì Mi rilassa Abbastanza Ci sta E invece Quando sei bello Carico Di energie Fai contenuti Monti De qua Monti De là Ma sì In realtà Allora Prima Di più Adesso Sto un attimo Cillando Perché voglio Trovere La quadra Infatti Attualmente Mi sto dedicando Di più A tiktok Youtube L'ho un po' Trascurato Anche se Dovrei Continuare Vabbè Ci stai Metti Gli short Su youtube Spero De sì Gli short Li pubblicavo Attualmente Ripeto Mi sono fermato Devo riprendere Pubblico Mi raccomando Tanto lì Alla fine Si tratta Dei Pubblicare L'altra No Semplicemente No Tagliare E tipo Tu fai Lo short E poi Lo butti Dentro Pure su youtube Cioè Nel senso Come se fosse Un altro Continuo Perché Ti spiego Su tiktok Non dico Per forza Ma i video Che pubblico Dai Io pubblico Sempre da un minuto E trenta Due minuti Ed è quelli che Vivono più virali Su youtube Ovviamente Come ben saprai È un minuto Solo Giusto Ok Quindi giustamente Devo creare Proprio Il format Sia per tiktok Che per instagram Perché su instagram Eppure un minuto e mezzo Non ricordo male Che per youtube Quindi devo fare Tre Contenuti diversi Il problema È editare I video per youtube Lunghi Non lo so Lo so per certo Perché io Tendo a non fare Video più lunghi Di un minuto Cioè se ti voglio Faccio un video Di uno short Deve durare Massimo 59 secondi In virtù Provedere Che mi ha appena detto Quindi Perché così Tutti a cera Direttamente È un sacrificio Mi rendo conto Alcune a me Mi durano Potenzialmente Un minuto e trenta Ma poi mi accorgo Che su youtube Devo fare un'altra E quindi Mi sono dato stare Io purtroppo Su tiktok Questo problema Che essere un pubblico Video Da un minuto e trenta Due minuti Anche due minuti e trenta Non vanno Cioè nel senso Non Vanno di meno Perché adesso Stanno spingendo Di più i video lunghi Giusto Eh sì Vero Come puttini Hai Perfettamente Hai perfettamente ragione Cambia una volta Al giorno L'algoritmo Quindi vai Perfettamente ragione Su quello Non ti posso Di niente Perché giustamente Avrei visto i dati E come dici Sì mi hanno sia consigliato E sia proprio Li vedo quando pubblico Tiktok Cioè quando ne pubblico Uno da un minuto Magari arriva A quei Ora ieri ne ho pubblicato All'incirca uno di un minuto E andato sui 70 mila Vabbè per carità Sta aumentando Però sai com'è Abituato Che pubblico Fino a un mese fa Ho pubblicato un video Mi è arrivato a 8 milioni Dico Ah quindi Il caldo Ce l'ha avuto pure te Eh Peraltro no Perché Io sono sempre stato così Ne pubblico due Che vanno sui 80 E poi ne pubblico uno Che va sul milione Quindi Ah ok C'è stato Quello che magari Deva virale E altri Che diciamo Ma poi sono molto nel chill Poi prima ci stavo Molto più Più sotto Cioè nel senso Se il video non mi andava virale Era un po' Un po' così Ora Perché com'è Tu ne pubblichi uno E va a 50 mila Poi ne pubblico un altro Che ti va Tipo a un milione Ma quel video Ti busta gli altri Quindi poi è tutto Un cane che morde la coda Sì Diciamo che Più che male Un cane che corde Che corde Buonanotte Non ci spiega Che corde Che morde la coda E tipo Se tu annaffi E te cominciai Grazie a una pianta grossa Iniziano a crescere altre piantine In prossimità di quella Insomma Nannaffi Sì sì Ci sta Pure a me succedeva questa cosa Infatti i contenuti Pure se uno va male C'è sempre la speranza Che uno che va Altri Va molto bene Aiuta E busta quello che è andato Un pochino male E quindi aggiusta un po' il tiro Sì sì è vero È vero Aster È bella skip È trovato Aster Secondo me hanno fatto così Per introdurre la stagione Oggi del capitolo 2 Ma secondo me La stagione oggi Il capitolo 2 Metteranno pure la prima persona Rega C'ho sto Presentimento Ma secondo me Capitolo 2 Non lo mettono Secondo me Sì No secondo me Non lo mettono Perché Da è nato Mita Da è nato Oyot Dove sono nati Dove sono nati i topastri Dove sono nati i topastri Però ci siamo eh Stanno tutti qua I topastri No se ne sono nati Se ne sono nati Fa aggiornamento Ah se ne sono nati C'è mi sei rimasto È rimasto il gatto E con un altro Ah c'è un giovane Ci stanno quei Quello da Oyot Se ne è nato C'è Mita se ne è nato Non c'è più Oyot Vedete Se tu apri la mappa Oyot Oyot Sono salpati Se salto sono nati Probabilmente In questa season Mi hanno un po' fatto storciare il naso Cazzo La scorsa sono arrivato a 100 erotti Eh qua Ma Non sei il primo Non sarà l'ultimo Che dirà sta cosa Diciamo che Forse le aspettative Erano troppo alte Io la vedo pure così Perché comunque La prima stagione Capitolo 5 È piaciuta a tutti Cioè non ho sentito qualcuno dire Eh la stagione Non mi è piaciuto È piaciuta a tutti E quindi quando arrivi Da una stagione Che è piaciuta a tutti Passi all'altra La gente si fa Enormi aspettative Ma tante tante E E lo sai qual è Nervi Il problema sempre Nel seguito dei film Che hanno successo Nel seguito dei film Che o ti busta Ulteriormente Quel film E te la fa diventare Serie saga O te la O te la spatola Proprio letteralmente Che E sancisce la morte Di quella Di quella roba Come puttini Sempre più o meno Sempre più o meno Quello Però sai peccato Perché Ora Per me è sempre stato L'1v1 Tra Fortnite Rainbow Cioè io gioco Tutti e due Ok Ed è proprio un peccato Perché ogni volta Si fanno Cioè è una season Ognuna Cioè uno fa una season Bella e l'altro brutta Adesso sta un pochino Risalendo Rainbow Anche se è molto Molto piano E fortemente sta un po' Un po' calando Peccato perché ripeto La scorsa stagione Era veramente bella Minchia Mi sono divertito Un panico Io ho pure comprato Il pass di questa Ma Non lo sto completando Perché il pass Per esempio A me non piace No infatti è orrendo Cioè il pass È letteralmente orrendo Non mi viene voglia Di giocare con Che cazzo ne so Con Hercules Quelle che cazzo sia Ma non c'è Ma non c'è Hercules Vabbè Vabbè Hercules Ma chi è Ma dove è nato No ho capito In generale Con i dei Ma sti cazzi Ma mettimi le skin carine Sì sì ho capito Ma secondo me Dove devi andare Lavorare alla Epic Ne esageriamo adesso Eccoci Esageriamo Esagerata 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 Tanto grazie mille A Padella Per il follo Ciao Padella E anche ai mot Per il follo Ciao Padella Grazie mille per il follo Ciao Già Adesso ci sarà Un altro Grande picco Grazie Stanno facendo Un sacco di roba Per il content Poi il fatto Da Disney Secondo me Non fanno Tanta roba Eh lo so A Disney Si è preso Il 10% De Epic Quindi Fa un punto Proprio per quello No mettono Paperino E Pluto Gente 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 Che stanno fatto Che non trappano I Stanno fatto Sto chiudere Dopo Io c'ho soltanto Due pompa Rega Aspetto Sto pushando Uno Sta pushando Uno Occhio Suti Vai dietro Suti C'è uno a cui Ha fatto 200 Nel bunker Suti Riesci Vai via Suti Quanto cazzo Lincola St'arma Occhio Nervi Occhio Nervi Ti pusha Eh no no Però Dico magari avanzano Io c'ho soltanto Due pompa Regate Quelli lì Spamoni Non so come aiutarvi Da lontano Che questi pushano Tutti assieme Vediamo se riesco A trovare Un esselto O qualche Cosine In se play Io perché Mi ho trovato Quello là Che faceva Tocchio Drift Poi mi sono Ricoti Tutti quanti Insieme Dovresti Gioca Dovresti Gioca Con Pippo Con Pippo Gaming Dovresti Gioca Michael Entrambi Siete Delle anime libere Mi giro Ma tu stai Pushate la gente Come se Non ci fossero Domani Passai la giusta I debottino Come l'ha pushato Hai pushato Hai sottovalutato I avversari Valedizione Ehi ti devo Un attimo Si si vada Arresta qua Assolutamente Immagina essere uccisi Da Pluto E prima o poi Diventerà realtà Ebroni Entrare realtà Prima o poi Arriverà Pluto E col piccone Che ti one clapperà Con le costruzioni E ballerà Sopra il tuo loot Sopra il tuo loot Il signor Oh sono qua davanti Si Comunque secondo me La gente che fa streaming Merita Ok arrivano Io no È davvero difficile Fare streaming Anche con altri impegni Io non capisco come fate a gestirvi tutto quanto Insieme Forza Forza di volontà Cioè per esempio io Voglio iniziare in questo mondo Che cazzo è Vorrei iniziare in questo mondo Stavo dietro dietro Oh ma che cazzo Oh ma che cazzo Oh ma che cazzo Ma c'è solo con me E pure come pure con me Infatti mi ha atterrato Ma sto botte che mi ha ammazzato così Ma di sono Svudi Ce n'era uno che gironzola qua No 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 Due li ha ammazzati Due li ha ammazzati Poi c'è il botte loro Ma sta arriva altra gente Io ti consiglio Te nascondete Se riesci Svudi Magari mi resti Sono giù Sono sotto di te Ma quanti erano Non ho scusato Come poti B Ogni volta che sta Come appuntamento Ti ritrovo sempre a resta Marino Chi Marino Non ci state Ma quanti Ma questo era un altro team Non lo so Non lo so Perché non ammazzati Due Quanti cazzo Erano da Ah Posizione protetta Meno male Io già Immaginavo Meno 10% No ma ti avrebbe dato Un 10% Full boxato Sì sì Aster Il topolino che Full boxa Questo era per il male Questo era per il male Sì sì Allora io Devo dirti sta cosa Nervi Che la dico sempre alle persone Perché sono stupito Da ciò Perché ogni tanto ci penso E dico Cavolo Com'è potibile Come ho fatto a non pensarci prima Com'è potibile Tu lo sai che Pluto e Pippo Sono entrambi dei cani Pluto e Pippo? Sì Ma la stessa persona Sì No Pluto e Pippo Non so la stessa cosa Pluto è il cane cane E Pippo è il cane umano Pluto Oddio è vero E cos'è È tipo l'evoluzione? Eh no Non sono i pokemon Però era per dire Che entrambi sono cani Se c'è Magari uno non ci pensa Sta cosa Entrambi sono cani Fa ride A me è un cane umano A me è fatto ride E' vero però Che uno è un cane Che cammina Due zampe E l'altro invece È un cane cane Che è vero Che è vero Marinoska Anche io Voglio cominciare a fare i stream E hai dei consigli Per cominciare E come dire Quando inizi È l'arte del fare Nel senso Devi fare E poi da cosa Nasce cosa Però è chiaro Non ti aspettare Che tipo inizi E fai La gente ti segue Cioè io Sai quante volte ho iniziato Che non segui A nessuno la live Però se è una cosa Che tu vuoi subito Ottenere dei frutti È meglio che non le inizi Perché purtroppo È È un mondo così Nel senso Devi molta pazienza Se sei uno Che non ha pazienza Non puoi iniziare Questa Poi non so se Nervi È È d'accordo Però non è che inizi C'è subito Tante persone Che te guavano Perché magari uno dice Beh inizi E via Frate quando mi dicono Voglio iniziare a fare Twitch Cosa devo fare? Non cominciare a fare Twitch Io dico Cioè nel senso Se tu iniziare a streamare Su Twitch La cosa più sbagliata Da fare È cominciare a streamare Su Twitch Mi fa prima i video Poi vedi Ma vanno i video Poi da poco Vedi se c'è interesse Ti crei un personaggio dietro Appena ti crei un personaggio dietro Allora vai A streamare Sulla piattaforma Quella che cazzo vuoi Però Follia Follia iniziare così Perché letteralmente Non ti incula nessuno Perché Non c'è una Cioè Non esiste Un per te Su Twitch Sì è vero Non c'è Esiste Esatto Esiste Però Già quando è la partner Già ti mettono là davanti Comunque Ti fanno pubblicità in questo modo Ma deve comunque essere Un minimo affermato Cioè io Lo sto notando Quando ho la partner Lo sto notando Che Ti mette già più Nella schermata iniziale Se poi dipende Cosa porti Per esempio Horror Se io porto horror E vado forte con l'horror Mi mette là come horror Quindi Quando già sei mezzo affermato Allora va bene Però Si è vero Si è vero Tu dice così Letteralmente follia Sto facendo la storia Nel frattempo Per il meme Per il meme E qui Ma chi sta giocando Ma come è potibile Come è potibile Oh bella Giallo Ma stai parlando Nella storia Devo No 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 Sto facendo Sto scrivendo Di passare In caso In caso In live Comunque Lui è Sono nervi Caro Gianluca Sono nervi Giusto Sono nervi Sono proprio io Gianlu È proprio lui Gianlu Sono letteralmente io È letteralmente lui Uomo Uomo che ti spunta Probabilmente su tiktok Che si spaventa I horror Oppure tilta Sui giochi rage Sono proprio io È proprio lui Eccolo qui Eccolo qua Ai 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 E sì Comunque Meglio partita i video È chiaro che i video Ti danno magari Meno soddisfazione Perché non c'hai Un contatto vero Con chi guarda I contenuti Però è da lì Un monitor Un termometro Per capire I tuoi contenuti In che direzione vanno In che direzione Li vuoi far andare te Quindi sono d'accordo Con quello che ha detto nervi Poi le streaming È una conseguenza Per interfacciarsi E dialogare Con le persone Che apprezzano Quei contenuti E poi sì Perché no Farsi conoscere Anche da persone nuove Che arrivano Direttamente da quei contenuti È come se fosse Rubinetto No regà Alla fine In live In streaming Su Twitch Arrivano tutte quelle persone Che ti seguono Da altri social O ti conoscono Da altre parti Insomma In generale E ci vuole pazienza Ci vuole pazienza Non so Mi scusi Gioca forte Gianluca gioca Come me È un pochino Per usare un termine Un pochino Romano Romano È un pochino Infognato Su Fortnite Come me Quindi Ci sta Ci sta Io ho iniziato Le mie prime stream Quest'estate Quando andava Fortissimo Olli up Io non l'ho sfruttata Quell'onda Ma Per il discorso Che Non lo so Non mi divertiva Guardare Olli up Di conseguenza Se una cosa Non mi diverte Vederla Figura di giocarla Quindi non l'ho proprio Sfruttato E l'onda Ma mai Ma io L'ha detto Allora In sei discorsi Che ha fatto In sei discorsi Che ha fatto Cinque discorsi Ha detto Che tiktok Insomma E così E scusi Mi scusi Ok Stupido Nel senso Non in maniera Negativa Ok Nel senso E' stupido Perché E' un algoritmo Abbastanza Semplice Ok E quando tu capisci La tecnica Ci prendi la mano Sostanzialmente Tutti i contenuti Ti vanno virali Tutte le live Ti vanno virali Allora Per il periodo Che ho fatto Un li up Ci stavano Comunque Io facevo le live E in queste mie live Quando stavo In un punto alto Entrava un sacco di gente Trecento Duecento Spect Che aspettavano Che cadevi Appena cadevi Uscivano tutti Verissimo E rimanevi con 30 Ah beh Ma quello è lo stesso discorso De quando uno gioca a fortanette Quando finisci il lobby A gente se ne va In teoria Chi è interessato Solo al game In quella Ma c'è il momento Alla Si ho visto C'è Non vuole scendere Sono un pochino dubbioso Devo stare calmo Qui già Comunque Giallo La presentazione Io le faccio A chi voglio Va bene Quindi a te La volevo fare L'ho fatta Anzi Nel frattempo Ma che ho detto A gente di seguita Mannaggia L'ho fatta a metà C'è uno Due da me Una a terra E terra pure io Sono due Arriva E uno è sceso Eccolo qua Eccolo qua Da me Mannaggia Che sfortuna E l'altro Non so se l'ha reanimato In realtà Se la Nuova shot Ancora a terra Quell'altro Ce n'era uno Per terra Ragazzuoli Non riesco a salire Non ce la faccio Mannaggia Siamo su DS Se vuoi imbocca C'è il ruolo Per entrare Se vuoi invocca Gianluca C'è il ruolo Per entrare E dentro il canale Dove siamo Prego Prego Venga Venga Se vuole Venga Dove stanno Dove Non ho terminato Se ne sono andati Eccoli Se ne sono andati Non ritornano più Ma no no Stanno Dai Dai Giallo Tanto Tanto siamo qui Giallo Siamo qui Siamo qua Arrivo Comunque lo streaming È davvero difficile Soprattutto se Inizi Inizi Qua sotto Qua sotto Da poco Perché prima bisogna capire Le tecniche La dinamica Come funziona Come muoversi Morto Morto E poi comunque Devi Ha buttato Nel momento Crearti una community E poi dopo Capire come Intrattenere bene Cioè magari Se tu comunque Hai Quelle dieci persone Che ti seguono Sempre C'è uno Su di me Ma Da quelle dieci persone Ti fai una bella community E io L'ho notato Anche adesso Con il fatto Del team Io ho cominciato A streamare Su tiktok A tempo Perso Qualche live Di brawl Per fare un po' Di sponsor Abbiamo aperto Sezioni di brawl Cercare i pro player E ste robe qua Ok E io con questa live Di brawl Però faccio Veramente un sacco Di Faccio veramente Un sacco di numeri Che infatti Io quando ho fatto I primi numeri Grandi Ho detto Ma qua è assurdo E non c'è una live In cui io faccio Meno di 200 spect Sì io non guardo Troppi numeri Perché Io guardo le persone Che partecipano Alla mia live Nel senso che Ai numeri Preferisco la gente Che partecipa Attivamente Anche al di fuori Del gioco Che sto portando Nel senso Anche dalla Domanda Che Tipo Che fai oggi Come va Ieri che hai fatto Oppure che commenta Quello che dici E racconta una storia A quella persona Tu rispondi A quella storia I numeri Io non li guardo Perché Ma io non Se io dovessi Guardare i numeri Avrei potuto fare Anche altro Rispetto a quello Che ho fatto Avrei potuto Prendere situazioni Virali Che mi sono accadute E prendere a balzo Quelle occasioni Però io sono Una persona Che Ci tiene A Anche pure Pure con Gianmarco Sei andato A finire In post insane Eh Però Nel senso La mia fortuna Che come sono in live Sono nella vita reale Quindi C'è uno di vita Ah ma non ci siete Però avrei potuto Avrei potuto In alcune situazioni Vabbè Io Fatico a parlare Di numeri Io Più che altro Parlo di persone Che fanno parte Da comunità Che i numeri Se te domani Brossars Lo chiudono Perché Lo chiudono In qualsiasi motivo E cambi gioco E tutti quei numeri Fluff Spariscono È giusto È quello È quello che penso io Poi magari Un pensiero sbagliato Magari Non dico che Raga c'è gente da me Che provano Sopra Sopra da terra Ma l'altro Fortino fortino Raga io non ho armi Ci provo Ma ho un Niente Una Terra Oh Quanto stava questo Tenta macchina qua di sotto Ma del Nado C'è uno qua da queste parti Ma no Ah eccolo No Sta svolà Svolà Di strazzolazione Ma mia regà Che mira Che mira Meno male Chi non ce l'ho Ma avete scudini E l'ho trovato di qua per terra Venga guardo è Eccolo qua Venga Uno e due Avete qualcosa da darmi Che sto secco De che è Colpi Un'armi Colpi Vai E pompa non ce l'ho Seguro Vabbè Stanno Con la pistolina No Tieni Tieni questi Gioca la pistolina Ok Vabbè tanto non ce l'ho Ma scusa da quando è che hanno rimesso il Nervo che ci fai Nervi che ci fai su fortinet Dicono Ai 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 Se stanno arrabbiando Che ci fai qua Oh no Sono Come potibile Come potibile Regà E mi dispiace Regà E' colpa mia Mento subito la mano Anzi E' colpa mia E' colpa mia E' colpa mia Eccolo qui Eccolo qua Ciao ragazzi Benvenuti Ciao rise E ciao anche al buon Frani Benvenuti Benvenuti Ciao anche a un bar Devo comprare una tastiera nuova Che ti serve Mini Sì grazie Io invece devo comprare Un po' di ore Di tempo Cioè le giornate Invece di durare 24 ore Devono diventare Da 48 Io Io e Nervi Possiamo chiedere a te Michael C'è qualche soluzione Per allungare le giornate No Così nervi almeno Per mille di meno Così facciamo più contenuti Nervi Se riposiamo un po' di più Cosa Cosa brodero? Che non ho sentito scusami No regà Non ho sentito Stava facendo Probabilmente stava vedendo Uomini e donne No vabbè è finito un po' No stavo leggendo i commenti Di quei tumori Che sono No Dicevo nel senso Quello che dicevo E siccome C'era Michael Che cercava colpi Io a Michael Gli ho detto Che a me e te Serve una giornata Da 48 ore Se lui poteva fare qualcosa A riguardo Così facciamo Eh sì Poi dei contenuti in più Uno se la cilla un pochetto Esce un po' di più Eh Mi sa che la soluzione non c'è La soluzione a riguardo Non c'è proprio Ciao mulino Ma c'è un piccolissimo problema Ma Ma è bugata la mappa Sì C'è non vedi Noi vicini Eh sì Eh lo so Il bug Pronto pronto Della Della Dell'aggiornamento Che è arrivato Ai 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 Ma io come faccio A avere 7 kill Oh E io ce ne ho due Ma va bene Se sale Se sale Va bene Va bene A me sta bene A me non mi ricordo No scudini Ciao Diego Grazie mille per il follow Mi sa che c'è gente qua davanti al boss Sì Sparano Valeo Valeo Gli scudini Dove stanno? Eh qua sto arrivando Sto arrivando Vengo da voi che qua si stanno spatolando Ma ne che tante volte avete trovato tipo Un assalto migliore del bianco Eh io ce l'ho durato No no E niente Svudi Ha rotto todo Svudi La ringrazio Incredibile Ma Ringrazio Eh guarda guarda che c'ho io Se vuoi proprio ti regalo questo Guarda Proprio Servono colpi cieco ragazzi Colpi cieco per me C'è gente C'è gente qua Mi stavano guardando Oltre no il mio treno Che c'è qualcuno qua No ok Non c'è nessuno Posso Mamma da una controllata Quanti tanto bisogna controllare Insomma Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Ultimamente stanno a pagare tutti eh Quindi controllo meno Perché vedo che Le entrate sono superiori al passato Quindi vuol dire che la gente sta a pagare Posso Ai Mi hanno sparato Sì Giunta qua Monte C'è il panico Sei solo devi tornare Sì sì Sotto una Stanno vieni al treno Stanno Siamo qua Siamo a bordo 6 Non ci conviene Corco di asserano Crecato quello a mezzo Crecato quello a mezzo Oh Mi spavano ovunque Ti ho occhi che sono pure a 75 62 Minono un cazzo di armi Colpi cieco Colpi cieco Ce la vede C'è uno solo Eh no Eh io tra Tu dite prego Dammi qualcosa Grande Quattro colpi Bene Aspetto io 50 Sono ovunque Non posso fare un cazzo Pusciano 60 Oh Stanno a pucia Oh Ma arriva l'altro anche Arriva Ma che sta a fare Traccato Eccolo qua Eccolo qui Eccolo qua Cosa vogliono fare Oh questa partita Maria E' meno male che sta andando in una certa maniera Perché quelle di prima insomma Non erano proprio I polli Bravissimi Bravissimi La prima dei polli Io so qua che sto da tre ore che sto giocato Che prima No no Anche Sono letteralmente stompati Mi scusi Che sta cosa A me stiamo a pensare tutto tranne che aiuta Nervi Cioè io non Non capisco Ciao Davide Ciao Davide Mi fa piacere Mi fa piacere Davide Grazie Ryze per il follow Unica cosa che so fare bene è trattenere Eppure io ci provo Più o meno è la stessa cosa della vita Del tipo E io non sono un modello Devo puntare sulla siberia E più o meno pure che è live purtroppo E tutto è arrivato a tornare lì Giallo Scusi se non stavo risposto Giallo stavamo qua Che era anche del macello Preferisci la fidelizzazione alla verilità Allora guarda Sarai un'ipocrita se ti dicessi che Non sono entrambi importanti Perché bene o male la viralità ti aiuta a farti conoscere da molte persone Che magari possono andare bene per quello che sei Che vuoi trasferire La viralità è sempre la scelta Dalla viralità poi per prendere la fedeltà Eh però magari c'è chi diventa virale e non prende a fidelizzazione Capito io invece sono uno di quelli che preferisce un pochino meno viralità Però più fidelizzazione Infatti devi Bilanciare le cose È essere morto ragazzi No Quanti morto Non so Non so che mi spieghi mi cazzo ma sparato da dietro Vieni 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 Eh ma no no ancora sei vivo Eh no sono vivo però sì quasi No vabbè stai bene stai bene La viralità Non so chi cazzo ma sparato ma devi dietro Non so cecchino Non so cecchino Orco di azzesi radiai sono morto ragazzi Ma rice appena fatto un Facciano tutti con me frate ma impossibile Eramo il team al ponte Nooo mi dispiace capo Mannaggia Guarda che merda Bravo Morbo a padonna Bravo svuti Fatto Oh boh mio che pigna svuti Ma io Ma io non so che dire Svuti hai fatto Una bella Qualche scildino sto Sto coglione No no Eccoci Colpi cerco E grazie Colpi cerco Farebbero come modo Pura mattini Io lascio tutto Stiamo a secco Di colpi cerco Da me da me da me 121 Cosa manca Rezzo Mi raccomando Siamo Una luna Come sempre Tu non rega una mano No canni Non pensavo Vabbè va a partire 121 Caccato di nuovo Rega Sto a fare C'è un po' Ti C'è un po' Di nuovo Morto Crackato Un è morto Un è morto Vabbè una po' Uno sulla sinistra Sì sulla sinistra anche Qua ho fatto un triple 121 Sotto al ponte sta restando Sotto al ponte sta restando Dove? Non sta qua dietro Sta qua dietro Ecco Occhio Crackato Morto uno Crackato C'è sta morto Mamma mia Rega Quante chi sto E io Non si riesce Da me Da me Fatti Sì Easy Ma come pure manca a pagarle Avete cura io sto veramente Medikit rega Shieldini niente Non c'è la safe Hanno restato qua Da Sopra l'isola È messo a poco di sì È quello là Dando frani Andiamo 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 Oh qua stanno i rift Oh mi sono cassato a mezzo a un arbero Stavo a guardare la cinta Non posso offrire questi rift Andiamo Ah ma l'isola è una lampigliata No 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 Sì sì Sono qua No Scappato via Ma questi mi spavano Ma che stanno sopra Sì Questi stanno a città Come stanno a città No Sì sì Sono morti in volo Non si può vedere Qua la mitaglietta mi ha fatto un quinto block Mi prendono sono morti Chi non sei sale Ah Io ho rischiato la pelle Salendo su quel rift La merda ma qua a destra Vabbè ragazzi la mia fine Se questo esce un altro po' la capoccia Io gli faccio un bel headshot Faccio un let's go Che cosa è che si fa Io mi vedo Qua c'è un barri lì se volete Eccola la sua capoccia Ho un in volo Un in volo Sì Ti sta pusha secondo me No dove sono nato Sono andato dentro i rift Per sbaglio Stavo se non ci vediamo nella mappa Mi vista Vesta una pusha Tiltare Arrivano arrivano Pushano Io non c'ho cura Un problema Ma non pushano per arrivano Dragon ball Goku Tu ti sei Il blu Goku non lo sai Oh Non ci credo Ma dove? Atterra pure quello La regà Quella mi ha atterrato E' cascato per terra Sta qua Sta qua Sta qua Se c'è ancora Mi rubo qualche cosa E niente c'è un amico suo Amico suo E niente niente Però sapere Su Ah eh E' come un bravo su di Provo su di E finisci li su di E portatele Chi la casa per favore Finito E c'è un altro per terra C'è un altro per terra Erano due Infatti No un altro per terra Un altro per terra Bravissima Curvo Sono salito Eh pino Mi dispiace Mannaggia Ciao davi Grazie mille per il Per il follo Senza E noi esageriamo Questa squadra Mi sa che so Quello più deboluce In realtà Sono i naig Sono preso Le ali Spiccate il volo E non vedo nessuno Nessuno Passi Dove Sono mezzo Si Quaggiù Quaggiù Da me Dove cazzo stanno Eh frani Lasciate la risposta Ma come sotto Eccolo eccolo Io Moby Iniziai Con le streaming Ma poi mi sono accorto Di aver sbagliato E di conseguenza Tornassi indietro Iniziare con i video Piuttosto che con le live Maia cristo Il dio Da dove Che è successo Ho qua 20 persone Ma la La scheda mia Non c'è Ce l'hanno Sì Da nervi Ce ne vorrei Quanti sono Ma io 24 Eh vabbè Bravo Swoodie Bravissimo Swoodie Bravo Bravo Prendite Stagli Lozza Bravo Bravo E sopra Sopra Furi Rega Solo Vengo ad Enervi Ma ti conosco Un sacco Grazie Tiktok Grazie Davido Fa piacere Fa piacere Capito Si basta Che fai Ragazzi Che cazzo Fassi No Rega Ho fatto Un stranzato No Quanto toglie La tempesta Due Vabbè Chill Svoodie 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 Tanto c'hai due kit Ah più che altro Cavolo Niente C'è stata gente Oh io ho trovato Svoodie Adesso Che fortuna Tony Grazie Unire Barfalo Voglio una tua Kill Con lo sniper E per i boss Svoodie 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 Così Niente marino Non mi vuole più bene No come Svoodie Ma vedi Il tempo Un attimo Ok mi alletto Ma certo Io te leggo Certo Io te leggo Mari buonasera Se vuole poi farsi qualche rank build Non lo so Perché Non lo so Cara Beatrix Perché tra un po' Devo In verità Devo staccargli Che oggi devo andare al lavoro Devo fare ancora un po' Dei tiktok E li devo programmare Perché ieri ho scritto Quando invece di quando Bea Mamma mia Quando invece di quando Ho scritto Ai 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 Sono morto di seffio No Comunque te ringrazio Bea Ci sarà sicuramente occasione Magari un pochino prima La prossima volta Così ce le facciamo volentieri Tipo Per dire Magari attorno alle 4 5 di pomeriggio Così c'ho quell'oretta Più tranquilla Comunque se apri la mappa In alto a sinistra Se mi ricordo bene C'è scritto il danno Che fa la tempesta Sì 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 Però adesso Gli ho chiesto giusto Beh Adesso togli 5 Prima sono andato da Beatrix A dirgli che è una cattiva persona Con affetto ovviamente Ah hai fatto bene Hai fatto No non è vero Scherzo Ovviamente Ovviamente scherzo Non si fa Non si fa Non si fa Non si fa Mi ha fatto apposta Che fa Svudi Che si fa Svudi C'è voglia di andare davanti Voglia di andare Ah ok Eh ma mo che fa Mi sa che rimango da solo No no Svudi Ha molti assi nella manica Devi soltanto sperare Farsi sto kit Velocissimamente E continuare la rotation Velocissimo proprio Ma prendi quei bende Bravissimo No la sca No uoi Eh no Non c'è Ah eh salta salta E quali la fai Bravo Fate le bende Fate le bende subito Io sto a fare un po' di Fate subito la benda Fate subito la benda Ski In una posizione Staticissima No lo sai che in quel caso Sono meglio le bende Eh ma le quelli Non curano Nel frattempo il bende Hai ragione Che a dove Nia Chi tu vieni Hai ragione Hai molta Ragione Dai Lascio medikit Lascio Lasciati Lo prendi Mamma mia Che salvata Oddio no C'è gente da me Che salvata Mi ha distrutto Ci siamo ammazzati insieme Fammi resti Mi resti Mi resti C'è pure un medaglione qua Ti prego Vai incontro Vienite incontro Uno e l'altro Mamma mia Rega Che partita Che stiamo facendo Ah intanto Stanno tutti giù Ci siamo ammazzati insieme Ti rendetevi conto Molto Che vorrei venire 14 kg Ho fatto sta partita Ma com'è potibile 14 kg Come diamine è potibile Ah boh Me lo chiedo pure io Hai medikit Bende qualche cosa No no nulla Eh Non ho niente Eh brutta sta situazione Però forse ce la facciamo Quello che ho ammazzato io Era fortissimo Cioè Veramente non so Ho avuto una fortuna Gli ho fatto 110 Col pompe in testa Ho trovato un medikit O c'è uno la sotto Ma l'hai steso No 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 Eh siamo Due team Ho sentito bello Ho trovato Ho trovato E' un'altra E' un'altra E' un'altra Dai il potere sotto Ci sta l'acqua No Germano Mi sa che sei Stato L'ho preso il potere Ottimo Vien con Abbiamo D'aggizzato Hai fatto bene A dirglielo Germano Perché magari Uno poi lì Per lì Non ci pensa Invece Ci hanno pensato I nostri Carissimi Ma portate Da casa Così Se a lì Mi sono Due medaglioni E' un 2 4 4 Rega Madonna C'era E' Come è possibile Dai 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 Il potere Michael Ma io sono morto Ma come ha fatto Ad un mostro Ah niente Il ciccio Tranquilli Tranquilli Ci pensa Il tero Michael Io spero Che quel Ci resta Ci pensa Non sia Tornare In lobby Perché No Quanti Team Sono Sono Uno contro Quattro Sì Sì Tranquilli Adesso Faccio Un bel Sgosto Qualche Kill Quello Ma che Mi Rasha Carica Quello Ma che Ma che C'aveva Eliminato Dai Non è lui Un altro Io ho fatto Il disastro Sta partita Sta ridendo Che Pippo Neppure Morto No Non dica Non dica Bisogna prenderla Con sportività Bisogna prenderla Con sportività Sono stati più bravi Loro A meno che non citasse Qualcuno Non ho controllato Un sacco Perché Sto a 55 Prima Stavo Tipo A 12 Quindi Avrò Fatto Una quarantina Ottibile Ebbè C'è Stato 18.402 Kill Signore Proprio Nervi Grazie Milla Nervi Anche Da Visto Peccato Che non Abbiamo Portata Con Le Sgosto Ci sarà Un'altra Occasione Assolutamente Per Forza Per Forza Grande Grande Un abbraccio È Stato Un piacere Poi ci Sentiamo Se vogliamo Fa Qualche Assolutamente Orror Ma vediamo Assolutamente Un abbraccio Ciao Bellissimi Ciao Ragazzi Per Forza Per Forza Oh Grazie Milla A te Michael Grazie Milla Svudi Grazie Milla Ragazzuoli Spero Vi siete Divertiti Penso Io Farti Perdere Friends Per Forza Per Forza Za Per Ciao Ciao Belli Ciao Ragazzi Grazie Grazie Ragazzi E così Mamma mia Rega Sto divertito Sto divertire Sei divertito Tutti Il buon nervi C'è venuto A fare Visita Nesgoski Nesgoski Mamma mia Comunque Fermatevi Proprio Oggi Oggi Mi so stanca Più De ieri Dovete Dirmi Com'è Possibile Ciò Oggi Mi so stanca Più De ieri Ma perché Mi so Concentrato Più A giocare Non Credo Proprio Rega Non credo Però Ieri ero Più Chill Ero Più Ma forse Ieri Lo sa Perché Perché Ieri Abbiamo fatto Tutto il tempo Pubbliche E adesso Che ci siamo Spostati A fare Ranked Tutta L'energia Che Ciò È stata Completamente Focussata Sulle Partite Anche se Non è Che Abbia Fatto Questa Quale Incredibile Performance Ma in tutto ciò La kill De prima L'avevo segnato Un'ora e 45 Spero proprio Di sì Spero proprio Di sì Sì Un'ora e 45 L'avevo segnata L'avevo segnata Molto bene Molto bene Oh chi c'è in live Rega Giusto per sapere C'è Frani C'è Sashavin Moby Che altro Che altro E c'è ancora Che altro c'è Giusto Ah rega Io Di casa Devo uscire Di norma Alle 7 E mezzo Devo montare Quegli short E devo stare attento A non sbagliarmi A scriverli Perché mamma mia Mi sono sbagliato A scrivere Un casino E ieri ho scritto Quando Ho ripetuto Già Non l'ho chiamato Al lavoro Io ho detto Che oggi Siete Magari 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 E vicino Con Marinocchi Ci si diverte Sempre Marinocchi Marinocchi Pagato Ovviamente Meno male Ma quella È un'ottima cosa Io non so Se farmi una singolo Per il meme Giusto così Per chiacchiere Un pochetto Cavolo Ora se mi vedete tutto Tipo no Giù Mi vedete tutto così Perché so Che cosa Mi aspetta PS5 Devo staccare Montare i video Poi devo scrivere Non l'interiore La cosa Non so se riesco Devo svegliarmi La mattina Devo svegliarmi La mattina Pla Pla Benamari Sono anche qua Gigio Lei non deve stare Là Lei deve stare Su Twitch Gigio 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 Ma poi invece Bruni è tornato Ragazzi Ha fatto i capelli Mi sa Bruni è riuscito A tagliarsi In capelli Attenzione Non male Ciao freccia Ciao barone Buongiorno Buon pomeriggio Prima abbiamo E abbiamo eliminato Qualcuno che stava Guarda la streaming Ragazzi Mannaggia Cioè che stava Guarda la streaming Che probabilmente Ci ha riconosciuto Quelli sul ponte Mannaggia Quelli sul ponte Ragazzuoli Non volevo Accadesse ciò Non volevo Che accadesse ciò Invece è accaduto Invece è accaduto Mi sono un attimo Alzato Ragazzi Stavo tutto sbregato Nessuno mi ha detto Ma lino occhi Ma stai tutto sbregato Ma solo a me Sto facendo fare Un altro aggiornamento Stai Mi sa Proprio di si Che è strano Che ti sta facendo Fare un altro aggiornamento Come mai Come mai Ti sta facendo fare Un altro Aggiornamento I gitanni Ok facciamo questo qua Il fucile pesante Con il pompa Facciamo questo con il pompa Ragazzi Facciamo questo qui Con il pompa Ciao mario Vado che devo studiare Il discorso Invece un buon lavoro Grazie mille frani Discosi così Che si studia nel 2024 Let's go Mi raccomando ragazzi Lasciate il work Finché la live attiva In maniera tale Da supportarmi Eppure se magari Non state vedendo Lo streaming E state facendo Qualcos'altro Di importante No così almeno Intanto Grazie mille A tonino E avvinca per i follow Non so se vi ringraziato Però meglio Due ringraziamenti Che nulla Quindi Meglio non rischiarsela Meglio non rischiare Ti metto sottofondo Grazie mille frani Andiamo a distese Del duello E vediamo che cosa Ci aspetta Anche perché Questa è una ranked Prima abbiamo preso Un bel po' Di punti Grazie ragazzuoli E cerchiamo Di non buttarne Subito un po' Buttarne via Subito un po' Miki Grazie mille per i like E benvenuti E le sgoschi Ah 750 mega Allora un ulteriore Piccolo fix Probabilmente Che la epic Avrà inserito Probabilmente Probabilmente Sì Marinoski Non vedo l'ora Che fai la fortanettata Con gli stalloni Sarà Sarà divertente Almeno spero Almeno spero Sarà divertente Sarà molto divertente Ragazzi Deve esserlo Deve esserlo per forza Faremo Tutto Quello che è il nostro potere Per rendere La live divertente Oh Oh Ehi No No Sei fermi Sei fermi Ho detto No 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 Ehi Ehi tu Ehi tu Ehi tu Ehi tu Venga qua Let's go Let's go Sì Così Le granate Lancia delle da sole Mi lasci stare Mi lasci stare Oh Vai 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 Oh No Non ce voglio Niente Ma c'è una pochissima vita Ma erano in due Che si rincorrevano E mi hanno visto a me Era pure un mida Senti Senti Mi vedi Mi sono abituato Troppo a giocare in compagnia Guarda Guarda Aster Gioca No 48 7 punti Guarda come giocano tutti Guarda come stanno tutti giocando Guarda come giocano tutti Guardali Guardali come giocano Guarda come io gioco Comunque ragazzuoli A parte tutto Io direi che È arrivato il momento Un attimino di salutarci Sono fatte quasi le 6 Così faccio i content Tranquillamente Con tutta la calma Di questo mondo Poi alle 6 e mezza Devo mangiare Poi mi devo cambiare Dove andare al lavoro Stasera c'è pure la partita A Roma Mentre sto al lavoro Speriamo bene per la Roma Contro il Milan In Europa League E detto questo E detto questo ragazzi Facciamo un raidino Facciamo un raidino A chi Vediamo 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 Un raidino a qualcuno Che conosciamo Un raidino a qualcuno Che conosciamo Ma raga Lo sapete Lo sapete che faccio Lo sapete E raga Vi mando da una persona Da cui non vi ho mai mandato Vi mando da una persona Da cui non vi ho mai mandato Va bene Guardate da chi vi mando Raga Guardate Raga Andiamo Raidino Su un gioco Diverso da Fortnite Raidiamo Il presidente E un presidente Eccolo là Un presidente Il presidente Stormy Eccolo là Andiamo Let's go Let's go Sì così Ci vediamo domani Raga Let's go Eccoci qua Eccoci qua Ciao ragazzi A domani No 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 Ok Si figuri Ciao E te pari Let's go Sì